Ok, partito. Allora, buongiorno a tutti quanti, sono Mauro Mezzini, iniziamo oggi la seconda parte del convegno educazione e intelligenza artificiale. Vado subito a presentare il primo relatore, il professor Gino Roccaglia, della nostra Ateneo qui a Roma 3, il professor associato dove insegna editoria digitale e informatica umanistica. È tra gli esperti che hanno partecipato alla censura del piano nazionale della scuola digitale, collabora con Rai Cultura, è un pioniere diciamo di internet, è tra il gruppo degli esperti nominati dal MIUR del programma Horizon 2020, professore onorario all'Università Nazionale di Vila Maria in Argentina e autore di numerosi saggi e pubblicazioni. Quindi con piacere lascio la parola al professor Roccaglia per il suo intervento, il primo intervento. e grazie. Grazie, grazie, ben trovate, ben trovati. Un invito che mi fa molto piacere anche perché il tema è un tema interessantissimo, è un tema oggi particolarmente attuale, in un certo senso è un tema di cui si parla anche da molto tempo. Io condividerò una presentazione in parti dell'intervento, diciamo, vado a condividerla subito e mi confermerete magari che la si veda senza problemi. Se ci fossero problemi mi avvertite. Una presentazione, perfetto, una presentazione che parte relativamente da lontano per quello che riguarda il tema, cioè parte da un racconto classico citato molte volte sia a proposito di questi temi, sia anche nell'ambito dell'editoria digitale, quando si parla del futuro del libro. È un racconto del 1957 di Isaac Asimov, The Fund They Had, come si divertivano, quanto si divertivano in genere tradotto in italiano, ed è la storia di due bambini del 2157 che trovano un vecchio libro di carta e non sanno bene che cosa sia e in realtà appunto poi il bambino spiega alla bambina, c'è un ruolo di genere qui abbastanza tradizionale ai noi, ma il bambino spiega alla bambina che cos'era il libro. Perché questo racconto è interessante dal nostro punto di vista? Perché il futuro in cui il racconto è ambientato è un futuro in cui l'istruzione è completamente automatizzata, affidata al robot. Il bambino e la bambina in quel momento stanno parlando perché il robot di istruzione della bambina è guasto e quindi c'è un momento di pausa nella sua istruzione automatizzata e si può fare questo sguardo al passato in parte nostalgico, è un tema classico. Ora perché è curioso questo racconto? C'è questa idea di un'istruzione totalmente robotizzata, che è lo spettro che spaventa spesso quando si parla di uso dell'intelligenza artificiale nell'educazione e c'è peraltro non soltanto completamente robotizzata ma anche completamente atomizzata, cioè diventa il robot individuale che forma, educa il singolo e sappiamo negli Stati Uniti l'importanza, so quanto è diffuso il meccanismo dell'home learning, che è un meccanismo sostanzialmente appunto di formazione atomizzata e individuale e viene proiettato sul futuro e generalizzato sia questo meccanismo della formazione totalmente individuale, sia l'idea di una formazione guidata, gestita completamente dalle macchine e questo spettro per così dire, questo spettro della formazione automatizzata, gestita dalle macchine, è uno spettro che si aggira spesso diciamo quando si parla di questi temi. Se noi andiamo a guardare il tema generale appunto del rapporto tra formazione educazione e intelligenza artificiale, vediamo che appunto questo paradigma dell'insegnamento artificiale in qualche modo viene quasi molto spesso quasi identificato con il nostro tema e viene guardato naturalmente con paura, con resistenza, l'idea della classe con il robot che insegna. La realtà ovviamente è completamente diversa, credo nessuno mai proporrebbe una formazione totalmente robotizzata, spersonalizzata, gestita completamente da intelligenza artificiale, è un paradigma più da fantascienza appunto che da realtà, non soltanto perché non siamo nella situazione in cui si possa immaginare concretamente se non in casi particolarissimi e in ambiti abbastanza limitati una formazione di questo genere, ma anche perché non sarebbe sensato. Il processo educativo è un processo relazionale, un processo sociale in che ha bisogno appunto di spazi, che ha bisogno di fisicità, che ha bisogno di persone in generale, soprattutto nella formazione diciamo scolastica, a partire dalla formazione primaria. Noi sappiamo che in questo periodo c'è questa discussione accesissima sulla questione della didattica a distanza, della didattica in presenza e la didattica a distanza è presentata come una sorta di spettro, già terminologicamente Roberto Maragliano se ne è occupato in un bell'intervento di questo uso del termine distanza che diciamo fin dalla scelta terminologica in qualche modo allontana. In realtà l'uso degli strumenti, delle tecnologie digitali nella didattica, l'online learning sono in molti casi tutt'altro che distanti, a volte sono distanti le nostre pratiche educative in presenza, a volte sono distanti e respingenti, l'online learning non deve essere necessariamente così, ma questo dibattito di questo periodo che a volte sembra presentare i provvedimenti che vengono presi per la pandemia come una sorta di complotto delle aziende informatiche per sostituire la didattica online alla didattica in presenza, questa situazione che ci troviamo a vivere è anche una situazione che porta comunque a riflettere su quali sono gli strumenti digitali, le pratiche, le metodologie, le attività che ha senso immaginare in digitale. E allora quando parliamo diciamo di intelligenza artificiale ed educazione parliamo in un certo senso del grado massimo di coinvolgimento digitale nell'educazione e quindi anche del grado massimo probabilmente di capacità di spaventare chi teme qualunque forma di intervento delle tecnologie nell'educazione. Ora io qui non faccio il discorso generale, lo conosciamo bene, l'educazione ha sempre fatto uso di tecnologie, fa uso naturalmente anche delle tecnologie digitali oggi, ma erano tecnologie, la lavagna, sono tecnologie, la lavagna, il libro e non è certo una novità il rapporto tra formazione e tecnologie. Quello che però può essere interessante è cercare di andare a guardare dietro queste paure, dietro queste resistenze, dietro che immaginario c'è e quanto è lontano da quello che è concretamente il lavoro che forse è più interessante svolgere e fare in questo campo. L'immaginario appunto è quello della disumanizzazione totale, ma è anche un immaginario che sottilmente introduce un altro elemento, cioè l'idea che sostanzialmente la formazione, la didattica e non a caso in questi casi l'accento terminologico è su didattica più che su apprendimento, la didattica sia fondamentalmente didattica, trasmissiva, fatta attraverso l'uso del linguaggio verbale. Questa idea della, questo che possiamo chiamare un po' paradigma linguistico e che approfondirò tra un secondo, cioè l'idea che sia principalmente se non unicamente attraverso meccanismi trasmissivi basati sul linguaggio verbale che avviene la formazione, è un'idea naturalmente anche questa che ha una lunga storia, una lunga tradizione, ma è curioso come tende a riproporsi nel momento in cui si parla dell'intervento delle nuove tecnologie dell'educazione, non da oggi. Se andiamo a guardare una citazione, anche questa abbastanza nota, di fino a 800, di William Rainey Harper, che è stato un grande protagonista negli Stati Uniti, diciamo, una figura che si studia quando si studia storia della pedagogia, quando si guarda con l'evoluzione delle idee pedagogiche, è stata una figura anche molto importante storicamente dal punto di vista del sistema educativo degli Stati Uniti, l'Università di Cicalgo, eccetera. William Rainey Harper era molto aperto all'idea di utilizzare quelle che per allora erano nuove tecnologie della comunicazione nel campo dell'educazione e della formazione, e in particolare era un entusiasta della formazione per corrispondenza, di quello che a volte viene presentato quando si fa appunto la storia della formazione a distanza come il grado zero della FAD, e c'è questa sua frase ben nota in cui diceva arriverà un giorno in cui il lavoro fatto per posta, cioè attraverso la formazione per corrispondenza, sarà maggiore in quantità e in rilievo di quello fatto nelle classi delle nostre università e dei nostri college, quando gli studenti che diciamo faranno, è interessante l'uso del termine recite, che è un uso comune quando si parla di, diciamo, nel sistema accademico anglosassone, cioè l'interrogazione e l'esposizione da parte degli studenti, vengono appunto interpretate come l'attività forse principale nel processo di apprendimento e il modello è quello dell'esposizione per corrispondenza e che nel seguire le lezioni ed esporle per corrispondenza rispetto all'esposizione orale. Anche in questo paradigma, diciamo, William Rayne Harper è interessante come innovatore per molti versi, però vedete come rimane anche terminologicamente un paradigma fondamentalmente linguistico, cioè la formazione e l'educazione sono fortissimamente legate all'uso del linguaggio verbale. Questo paradigma linguistico che è molto spesso associato a un'idea fondamentalmente trasmissiva della didattica, in un certo senso si incontra bene o almeno può essere collegato con quello che è il paradigma linguistico che è stato, anche storicamente, il paradigma linguistico alla base dell'intelligenza artificiale forte. Io farei una brevissima digressione, per così dire, poi riprendo la condivisione subito dopo, ma farei una brevissima digressione sul concetto di intelligenza artificiale forte perché ci può aiutare a capire anche appunto i limiti di questo paradigma unicamente linguistico. Voi sapete che in intelligenza artificiale il lavoro è partito storicamente da padri fondatori che, pensiamo all'idea del testi Turing, che molto spesso condividevano due assunzioni di base, che sono anche assunzioni che hanno una lunga storia nella tradizione filosofica, Leibniz, Hobbes. Le due assunzioni fondamentali erano, sono che l'intelligenza sia soprattutto un fatto linguistico, siamo intelligenti per la nostra capacità di utilizzare il linguaggio ed è il linguaggio che in un certo senso ci fa intelligenti e la seconda idea alla base un po' del paradigma dell'intelligenza artificiale forte è l'idea del linguaggio come sistema formale, cioè la seconda assunzione, anche questo appunto piuttosto forte anche rispetto agli sviluppi successivi, è che sia possibile presentare il linguaggio come un sistema formale e quindi sia possibile associando, mettendo insieme queste due premesse, l'intelligenza è un fatto principalmente linguistico, il linguaggio è formalizzabile, se mettiamo tutte insieme queste premesse otteniamo l'idea di un'intelligenza delle macchine, l'idea dell'intelligenza artificiale appunto di prima generazione, l'intelligenza artificiale forte di prima generazione, il paradigma era più o meno questo, macchine che sono capaci, che diventano, che sono intelligenti perché sono capaci di usare il linguaggio. Se noi pensiamo a come è immaginato il test di Turing, e questa è anche una delle critiche classiche che sono poi fatte al test di Turing, il test di Turing è un test di intelligenza linguistica, cioè il paradigma e il parametro per valutare l'intelligenza della macchina e andare a guardare se riesce a usare il linguaggio come noi. Questo paradigma linguistico è stato nel tempo messo in discussione per quello che riguarda il campo dell'intelligenza artificiale rispetto a tutte e due le premesse. Naturalmente è stato storicamente importantissimo e ha degli aspetti comunque molto interessanti, non è questo che è in questione, ma è stato messo in discussione rispetto a tutte e due le premesse, cioè sarà poi vero che l'intelligenza è soprattutto e quasi unicamente un fatto linguistico, non si tratta di mettere in discussione il rilievo del linguaggio per l'intelligenza, che è evidentemente altissimo, ma si tratta di mettere in discussione la quasi identificazione o l'identificazione totale dell'intelligenza come un fatto linguistico. Una delle critiche tradizionali che vengono fatte al test di Turing è che non è in grado per esempio di considerare intelligente o di valutare il comportamento di una persona che aiuta una vecchietta ad attraversare la strada, che è un comportamento intelligente che non necessariamente richiede un'interazione linguistica, ma che richiede il riconoscimento di tutta una serie di fattori, il fatto che quella persona può aver bisogno di aiuto, la distanza relativa delle macchine nel momento in cui la si aiuta a attraversare, cioè tutti i fattori che sono fattori che vengono valutati in maniera intelligente dal Boy Scout che aiuta la vecchietta ad attraversare la strada, ma che non sono minimamente presi in considerazione da paradigmi come quelli del test di Turing. Ora, quindi una critica può essere fatta sul primo versante, cioè quello dell'identificazione dell'intelligenza con l'uso del linguaggio, e una critica può essere fatta sul secondo versante. Siamo sicuri che sia così facile costruire sistemi formali che ci diano in qualche modo una rappresentazione algoritmica dell'uso del linguaggio e che quindi siano facilmente implementabili anche in una macchina. Sappiamo che anche da questo punto di vista la situazione non è così facile. Negli anni 50-60 c'erano ancora tutta una serie di paradigmi, compresa la grammatica generativa trasformazionale di Chomsky, c'era una serie di paradigmi che sembravano andare in questa direzione. la quantomeno abbiamo imparato che costruire un sistema formale universale capace di ricostruire quella che dovrebbe essere un po' la struttura comune alla base di qualunque linguaggio e quindi permettere di lavorare in maniera relativamente facile su temi come la traduzione automatica e appunto come l'intelligenza artificiale è considerata come fatto soprattutto linguistico, questa quantomeno non è così facile arrivare a formalizzare, a trovare sistemi formali che in qualche modo rappresentino l'uso del linguaggio. E quindi da tutte e due questi versanti l'intelligenza artificiale forte è stata messa in discussione aprendo la strada a una serie di paradigmi diversi, di ricerche diverse. Adesso non è certo qui il momento per andare diciamo a discutere tutte le varie linee di ricerca che in qualche modo sono partite non necessariamente in completa alternativa con il lavoro e la ricerca sull'intelligenza artificiale in campo linguistico che ripeto rimane un settore di enorme interesse ma appunto come possibilità ulteriori, quindi strade ulteriori per esplorare l'idea di intelligenza artificiale. Ritorno allora alla presentazione, recuperiamola qui, dovrebbe essere di nuovo condivisa. Vedete che c'è qualcosa di comune tra quell'immagine ingenua che abbiamo citato prima di uso dell'intelligenza artificiale nell'educazione come forma di sostituzione del docente che fa lezione usando il linguaggio verbale e quasi esclusivamente il linguaggio verbale in forma prevalentemente trasmissiva. Il robot in classe o il robot personale che interagisce linguisticamente con lo studente, la studentessa, gli studenti, in maniera prevalentemente, usando prevalentemente il linguaggio è questo paradigma linguistico nell'intelligenza artificiale forte. Proprio come si può mettere in discussione il paradigma linguistico nell'intelligenza artificiale forte si può mettere in discussione questo paradigma linguistico e linguistico molto spesso trasmissivo nella didattica e ci sono molte situazioni in cui il paradigma linguistico non basta. Qui ci dovrebbe essere un'immagine che è saltata l'immagine, comunque l'idea è quella appunto che in molte situazioni il paradigma linguistico può non bastare, può non essere sufficiente. e la formazione, l'apprendimento, l'educazione, certo lavorano molto con il linguaggio verbale, con l'uso del linguaggio verbale, ma lavorano molto con mille altri elementi. Roberto Maragliano sicuramente diciamo su questo può dire anche di più di quello che posso dire io sull'importanza degli elementi visivi, degli elementi sonori, il fatto diciamo che molti aspetti dell'apprendimento sono legati a canali anche diversi da quelli unicamente legati al linguaggio verbale, così come ci sono mille aspetti rilevanti nell'organizzazione di un sistema formativo, pensiamo all'importanza degli spazi di apprendimento e pensiamo al concetto di spazio di apprendimento, quante altri fattori coinvolge oltre appunto all'interazione puramente linguistica, quanto sono importanti mille cose minute nel costruire uno spazio di apprendimento che funzioni e questo vale sia per gli spazi di apprendimento fisici, sia per gli spazi di apprendimento virtuale. Io ricordo sempre una cosa che all'epoca mi aveva colpito molto e che ogni tanto cito, e forse se la ricorda anche Roberto perché lui era stato tra i collaboratori di quel master, insomma ho gestito per un periodo un master in e-learning, in questo master che erano epoche, ai noi, un po' lontane ormai, e non avevamo a disposizione le piattaforme che abbiamo a disposizione oggi, non avevamo a disposizione strumenti di videoconferenza, l'interazione era sulle primissime versioni di Moodle ed era un'interazione che era soprattutto legata all'uso dei forum, alla distribuzione di materiali in piattaforma. Non c'era questa componente che oggi, diciamo, quando si parla di didattica a distanza sembra che si sia trasformata solo o unicamente nelle lezioni streaming o nelle conferenze streaming, che è un'idea disastrosa della didattica online, l'idea che, diciamo, la si trasformi in lezioni frontali online è semplicemente un'immagine distorta di cose, diciamo, di difetti che conosciamo molto bene anche nella nostra abitudine alla didattica in presenza. Ma allora comunque questi strumenti, che comunque sono utili, se sono ben utilizzati e ben dosati insieme ad altri, proprio non c'erano. A un certo punto è venuto fuori la possibilità di inserire nel model di questo corso una chat vocale. E con Francesco Leonetti, che era all'epoca un po' il gestore di questo corso online, appunto Roberto se lo ricorderà, noi abbiamo pensato, ah che bellissima cosa, diamo subito ai corsisti la chat vocale che potranno parlarsi, cioè finalmente non saranno costretti a scrivere soltanto, si potranno parlare, e forse c'era comunque dietro un po' di questo pregiudizio, diciamo, legato a un paradigma unicamente linguistico-verbale. E in ogni caso noi abbiamo dato ai corsisti questa chat verbale, abbiamo scoperto che i corsisti non usavano affatto la chat verbale per parlare tra di loro, continuavano a preferire la chat scritta, usavano la chat verbale per mettere della musica di sottofondo. e la musica di sottofondo costruiva un ambiente comune con un'efficacia molto maggiore di quella che probabilmente poteva essere data dall'uso, diciamo, che noi avevamo immaginato della chat verbale, cioè l'uso. E in realtà poi ad analizzare, ci sono delle ragioni per questo, è vero che parlare è più veloce che scrivere, ma è anche vero che in una situazione in cui c'è l'interazione solo vocale, naturalmente non ci si può parlare addosso, quindi si deve parlare a turni, mentre scrivere, ciascuno può scrivere, diciamo, è possibile scrivere in contemporanea, quindi non era necessariamente vero che la chat verbale facesse risparmiare tempo, mentre sicuramente nella percezione dei corsisti, e questo è successo in tutti i gruppi di progetto in cui avevamo introdotto la chat vocale, quindi non era stata una follia di un gruppo particolare, ma è stata una reazione del tutto naturale a quella di avere un canale audio che accompagnava la chat, i corsisti ci hanno messo la musica, e questa, diciamo, è una cosa che all'epoca ci ha colpito abbastanza, e dice qualche cosa. E allora, ritorno ancora una volta alla presentazione, qui c'era un'immagine che comunque era puramente evocativa, quindi non è essenziale, non so come mai si è saltata, ma se noi riflettiamo, e questo voleva essere un po' il tema principale del mio intervento, su cosa effettivamente può essere utile alle nostre piattaforme per il lavoro, l'apprendimento online, considerando appunto cosa può dare l'intelligenza artificiale, considerata come insieme di linee di ricerca diverse, e di pratiche diverse, non più come paradigma unico di ricerca del Golem, diciamo, dell'intelligenza artificiale linguistica, puramente linguistica, noi vediamo innanzitutto che il panorama degli strumenti che vengono utilizzati oggi nell'apprendimento online è un panorama estremamente variegato che comprende, e secondo me deve comprendere, strumenti diversi per scopi diversi, ci sono strumenti che non sono nati specificamente per l'e-learning, ma che possono essere utili in un'infinità di situazioni, ci sono le piattaforme nate specificamente per l'e-learning, una volta nella tradizione si distinguevano gli LMS e gli LCMS come i due tipi fondamentali di piattaforme per l'e-learning, le piattaforme di gestione dell'apprendimento e le piattaforme di gestione dei contenuti di apprendimento, e quindi depositi di contenuti di apprendimento. Oggi questo paradigma che era quello di una decina di anni fa è abbastanza cambiato anche per l'introduzione di piattaforme cloud che integrano funzionalità diverse e adesso non parlerò di altre cose come i MOOC, eccetera, ma quello che colpisce appunto è che questa introduzione massiccia delle piattaforme cloud se da un lato ha potenziato molti aspetti dell'interazione e sicuramente appunto quello della funzionalità di videoconferenza e anche le funzionalità per organizzare in maniera funzionale l'interazione in una classe virtuale sono quelle che sono cresciute di più e che ci stanno cambiando in mano in questo periodo. È interessantissimo andare a vedere come si stanno evolvendo questi strumenti in questi mesi perché ovviamente la situazione della pandemia ha determinato una fortissima accelerazione nell'evoluzione degli strumenti legati alle videoconferenze e alle classi virtuali e le direzioni di questa accelerazione sono estremamente interessanti da studiare. Quindi c'è un aspetto sicuramente interessante però c'è l'altra questione che ricordavo prima cioè è come se in questo momento noi stessimo considerando la didattica online solo come basata sugli strumenti di videoconferenza o di aula virtuale questo appunto è estremamente estremamente riduttivo. Ora davanti a questa grande varietà di piattaforme e di tipologie di strumenti naturalmente è abbastanza variegata anche la tipologia di forme in cui l'intelligenza artificiale può entrare a contribuire alla costruzione di strumenti di questo genere e direi che è un ingresso più granulare che dominante come nel paradigma diciamo del robot insegnante. Non è il robot insegnante il modello verso cui andiamo la formazione completamente gestita da agenti intelligenti che esautorano in qualche modo i docenti umani è un'altra questione un'altra direzione quella in cui ci stiamo muovendo quella di un uso granulare di strumenti di intelligenza artificiale a supporto di varie funzioni in situazioni diverse e su tipologie diverse di piattaforme. Un paradigma è sicuramente quello degli agenti software anche qui faccio riferimento a quell'esperienza di quel master lontano in cui anche qui credo Roberto se lo ricorderà c'era nei forum c'era a volte una certa tendenza all'eccesso diciamo a messaggi chilometrici di pagine e pagine c'erano alcuni corsisti che tendevano diciamo a essere decisamente troppo logorroici nei messaggi sui forum e questo era un problema non tanto per la lunghezza del singolo messaggio quanto perché costruiva diciamo un paradigma un modello anche per gli altri corsisti che se non erano in grado di scrivere il messaggio lunghissimo articolato eccetera evitavano proprio di intervenire e quindi l'eccesso di messaggi logorroici era problematico per la qualità dell'interazione complessiva e anche per la qualità della partecipazione alcuni partecipanti troppo logorroici bloccavano poi in parte l'interazione e allora era stato introdotto anche qui l'aveva fatto Francesco Leonetti un agente software banalissimo poco di intelligente diciamo rispetto a quello che si può fare oggi che era stato chiamato Toro Seduto come simbolo in qualche modo dell'idea che si può comunicare efficacemente anche in maniera abbastanza sintetica che davanti ai post sul forum che superavano una certa lunghezza si apriva la finestra con questa immagine di Toro Seduto che diceva Hug perché stai scrivendo così tanto sei sicuro che non puoi esprimere le tue idee in maniera un po' più sintetica non impediva di continuare a scrivere non era un blocco di lunghezza dei messaggi che sarebbe stato un metodo molto più antipatico e prescrittivo per scoraggiare l'eccesso di lunghezza ma interveniva a un certo punto per suggerire di provare a utilizzare anche un po' di capacità di sintesi questo Toro Seduto ha avuto anche lui un enorme successo diciamo nell'ambiente online del master tanto che c'erano diverse persone che scrivevano a lungo proprio per avere il gusto di vedere intervenire l'agente software di Toro Seduto ma è un esempio di una tipologia di strumenti in cui diciamo strumenti di intelligenza artificiale più evoluti di questo di Toro Seduto naturalmente possono intervenire in forma di agenti software all'interno del lavoro che viene fatto in piattaforma e anche qui in tipi diversi di piattaforme naturalmente cosa possono fare agenti software un po' più sviluppati un po' più intelligenti di quanto non fosse appunto all'epoca Toro Seduto beh in realtà possono fare diverse cose possono lavorare sul piano dell'interazione con gli utenti e della personalizzazione dei contenuti cioè possiamo creare agenti software che hanno una certa capacità di gestione di strumenti automatici di interazione con l'utenza un esempio banale dato da Jill un esempio famoso di agente in quel caso era c'era anche la componente della robotica ma usato per l'apprendimento che gestisce gestiva gestisce la mole di mail ripetute in un certo senso diventa un gestore di FAQ di Frequently Asked Questions in una piattaforma di learning molto popolata un agente software può gestire e rispondere a certi tipi di domande standard degli utenti che portano via molto tempo normalmente ai tutor sulle piattaforme online continuando a chiedere cose abbastanza simili credo che tutte e tutti noi che in questo periodo facciamo didattica universitaria online ci accorgiamo di quanto spesso gli studenti proprio l'altro giorno mi è successo nel mio corso nel forum didattico in cui gli studenti possono mettere delle domande la stessa domanda ripetuta tre o quattro volte perché lo studente non va a guardare i messaggi precedenti ma questa è una cosa che succede spesso questa è una cosa che agenti software anche relativamente banali possono gestire abbastanza bene e se costruiamo degli agenti software che hanno una capacità di una minima capacità di analisi di alcune tipologie di messaggi quindi sanno quali messaggi a quale richieste possono in qualche modo provare a rispondere in forma automatica e quali possono invece essere dirottate verso i tutor per una risposta più articolata o più complessa questo assomiglia molto all'uso di agenti software che viene fatto in mille situazioni anche diciamo di pratica nel mondo aziendale del business sappiamo quanti siti web hanno ormai la possibilità di interagire con chatbot con agenti software di questo tipo in maniera spesso molto insoddisfacente ma in alcuni casi può essere una strada per una semplificazione parziale di alcuni tipi di lavoro così come si può lavorare sul piano della personalizzazione dei contenuti analizzando in certi casi i comportamenti degli utenti anche i comportamenti in situazione di feedback per esempio come si risponde a un test analisi di quel tipo di risultati possono portare in maniera automatica a personalizzare alcuni contenuti e il livello di personalizzazione dei contenuti e anche di capacità di analisi dei comportamenti degli utenti in piattaforma naturalmente può essere anche abbastanza sviluppato e portare a risultati molto maggiori noi sappiamo che piattaforme LMS per esempio Moodle gestiscono già in maniera piuttosto sofisticata sistemi di reportistica sulla diciamo di tracciamento del lavoro degli utenti in piattaforma e su questo tipo di lavori si può sicuramente fare anche intervenire anche con meccanismi che appunto automatizzano e rendono in maniera in parte parzialmente localmente intelligente alcuni di questi lavori producendo report di livello più alto e quindi non siamo più costretti ad andare a guardare quanti minuti è stato ma c'è un'analisi della reportistica di basso livello che viene fatto da agenti software che ci restituiscono un quadro di più alto livello e questo tipo di strumenti sicuramente può semplificare alcune delle attività in piattaforma così come appunto ci possono essere situazioni in cui si può lavorare su un'automazione di alto livello di alcuni dei task che vengono svolti in piattaforma sono micro interventi questi che possono essere fatti attraverso agenti software man mano più intelligenti cioè più capaci di analisi raffinate e comportamenti anche relativamente complessi nell'interazione con gli utenti e con i docenti in piattaforma e questo sicuramente questa è una strada verso cui i sistemi LMS sono già abbastanza chiaramente indirizzati in cui il miglioramento delle capacità degli agenti software può migliorare in alcuni casi la qualità del lavoro e dell'interazione c'è poi professore uncaglia se sta terminando diciamo il tempo ecco lo volevo dicare questo reminder assolutamente l'ultimo punto che volevo toccare era quello dei contenuti intelligenti cioè un passaggio successivo è quello di lavorare su contenuti che sono contenuti di apprendimento nel senso molto ampio di learning content che sono in qualche modo capaci a loro volta di comportamenti intelligenti in contenuto apprendimento che non è necessariamente lo stesso uguale per tutti ma che in qualche modo è capace di adattarsi alle caratteristiche alle necessità dei singoli utenti questa è anche una direzione in cui si lavora si sta lavorando una direzione in cui il tema del rapporto tra intelligenza artificiale formazione educazione si incontra con quello con il tema del rapporto tra intelligenza artificiale ed editoria al mondo della costruzione di contenuti di apprendimento e anche questo è un ambito che sicuramente ha il suo diciamo interesse dal punto di vista generale sì io mi fermerei qui appunto era un tentativo di guardare inquadrare questi temi come passaggio anche da un'idea troppo forte del rapporto tra intelligenza artificiale e formazione ha un'idea invece di uso diffuso di strumenti come gli agenti intelligenti grazie professor Roncano di lato l'intervento molto interessante dal mio punto di vista e ci sono c'è una domanda dal pubblico che le leggo a partire a partire dagli anni del dopoguerra la rilevanza della lettura e della sua funzione educativa pedagogica è diventata centrale nella sua funzione di strumento formativo non solo per l'istruzione del soggetto ma nella formazione identitaria della persona oggi si discute di un abbandono dei confronti della lettura e una diffusione dell'analfabetismo funzionale qual è secondo lei lo stato attuale della lettura e quali potrebbero essere le future risposte digitali e non per superare tale momento allora naturalmente è una domanda di enorme portata e tocca un tema su cui lavoro molto perché forse il principale campo su cui lavoro quello della promozione diciamo come poter usare in qualche modo anche strumenti dell'ecosistema digitale per la promozione della lettura sono assolutamente convinto che la promozione della lettura sia essenziale nel lavoro che deve essere fatto oggi nell'ecosistema della formazione aggiungerei un aspetto cioè non è soltanto la promozione della lettura ma in generale la capacità di lavorare con contenuti articolati complessi strutturati che secondo me è quella su cui in questo momento bisogna molto lavorare perché non per un motivo essenziale ma per una questione di fase di evoluzione dell'ecosistema digitale nell'ecosistema digitale oggi prevalgono contenuti molto fortemente granularizzati e brevi e frammentati e il lavoro la riconquista della capacità di lavorare con contenuti complessi anche in questo sistema informativo nuovo è un aspetto fondamentale uno dei bisogni informativi primari a cui dobbiamo rispondere la lettura è un aspetto di questo lavoro perché tradizionalmente il libro è stata la sede della complessità argomentativa o narrativa ma il libro è sempre stato un po' nella forma libro è stata una delle sedi principali dell'organizzazione della complessità e quindi questo è uno dei motivi per cui lavorare sulla lettura è tanto importante come lavorare sulla lettura nell'ambiente digitale anche qui non in maniera secondo me prescrittiva lasciando le persone lavorando moltissimo sugli interessi e cercando di sfruttare l'ecosistema digitale come strumento di lettura aumentata ho lavorato in un progetto europeo Erasmus Plus che lavorava proprio su questa idea di lettura aumentata si è parlato molto nel campo dell'editoria digitale dei libri aumentati dell'idea di utilizzare le tecnologie digitali per costruire forme libro diverse da quelle tradizionali capaci di integrazione multicodicale di interattività e questo si lega al tema dei contenuti aumentati dei contenuti diciamo intelligenti aumentati di cui parlavamo prima ma non è l'unica strada ed è una strada che ha tutta una serie anche di problemi che rallentano lo sviluppo io credo che si arriverà e che sia molto interessante seguire lo sviluppo dei libri aumentati ma sicuramente quello che noi già oggi facciamo nella nostra pratica di lettori tutto il giorno è una forma di lettura aumentata cioè leggiamo il libro essendo sempre consapevoli del fatto che l'ecosistema digitale che abbiamo intorno la rete ci permettono di andare a ricercare approfondire un tema leggiamo il nome di un personaggio storico andiamo a guardare su wikipedia chi era leggiamo un riferimento a un luogo andiamo a guardare le immagini o le mappe un riferimento a una musica e l'ascoltiamo su spotify cioè quella che una volta era l'intertestualità è esplosa nella in una situazione di disponibilità di un ecosistema di rete e qualunque lettore indipendentemente dalla questione che legga in digitale o su carta che sia un lettore tradizionale o un lettore molto più abituato all'uso del mondo digitale anche il più tradizionale dei lettori oggi normalmente utilizza la rete come strumento per allargare approfondire l'esperienza di lettura e questo aspetto può essere un aspetto da sfruttare da utilizzare proprio nel lavoro diciamo di promozione della lettura verso generazioni che sono molto più abituate all'ecosistema di rete che all'ecosistema diciamo che alla forma libro far vedere che il collegamento tra le due cose è possibile e che c'è un lavoro di esplorazione reciproca diciamo di interazione reciproca tra i contenuti che sono in rete e i contenuti che possono essere organizzati e strutturati in forma complessa a formare appunto può essere un libro possono essere anche altre tipologie di contenuti strutturati e complessi ma l'idea dell'approfondimento è uno degli aspetti su cui e secondo me va sempre collegata all'approfondimento degli interessi la scuola il sistema formativo ha poca capacità di lavorare sugli interessi personali lavoriamo sempre troppo su didattica disciplinare troppo poco non che non sia importante la didattica disciplinare ma siamo molto poco capaci nel nostro sistema formativo di lavorare sugli interessi personali lavorare sugli interessi personali delle studentesse e degli studenti vuol dire abituare all'approfondimento e tra gli strumenti di approfondimento la forma libro e la lettura sono strumenti fondamentali grazie grazie professor Roncaglia grazie dell'intervento non ci sono altre domande io passerei con il secondo relatore della giornata che saluto e ringrazio il professor Piercesare Revoltella professore ordinario di didattica e pedagogia speciale presso la facoltà di scienze e formazione dell'università cattolica di Milano dove insegna didattica generale e tecnologia dell'istruzione è direttore del corso di perfezionamento di media education e di master sempre nell'ateneo suddetto è vicepresidente della SIRD e anche membro del consiglio direttivo della SIRAM ed è membro di numerose riviste BOA di numerose riviste e direttore del research on education in media io quindi ringrazio e lascio la parola al professor Rivoltella grazie grazie di questa presentazione e di questo invito di fatto non sono più vicepresidente della SIRD ma sono ridiventato presidente della SIRAM ma questi sono gli scherzi del web dove le informazioni spesso si sovrappongono senza consentirci poi di ricostruire l'evoluzione temporale grazie comunque dell'invito grazie di questa presentazione mi fa piacere essere in questa sessione insieme con Gino Roncaglia con Susanna e Roberto soprattutto gli ultimi due li saluto cordialmente anche perché questo meeting virtuale non ci consente di vederci se non attraverso l'interposizione dello schermo io spiego di solito ai miei studenti che ci sono due grandi versanti di ricerca e di intervento per chi lavora con le tecnologie nei contesti formativi il primo è quello dell'education technology e l'intervento di Gino è un classico intervento di education technology quindi di riflessione accurata sul significato della tecnologia a supporto dei processi di apprendimento e di insegnamento e poi c'è l'altro versante che è quello della media literacy o della media literacy education meglio che invece produce riflessione e strumenti di intervento in funzione di uno sviluppo di competenze negli utenti nella scuola e nell'extrascuola nei contesti formali e nei contesti informali soprattutto nella direzione della formazione di consapevolezza critica e nella prospettiva di un uso responsabile mi collocherò su questo secondo versante provando ad offrire un punto di vista complementare rispetto a quello su cui Gino Roncagli ha già insistito e sul quale credo anche Susanna e Roberto poi ritorneranno e quindi il mio obiettivo nel mio intervento è di riflettere sulla centralità culturale dei dati nella nostra società individuando nei dati il punto critico per una nuova consapevolezza educativa allora la mia tesi è che la media literacy education abbia bisogno di rimettersi in moto dal punto di vista della sua produzione concettuale di quadri di comprensione perché è un pochettino ferma ci siamo mossi dai media mainstream ci siamo lasciati alle spalle anche i media digitali e sociali siamo nella società del calcolo e dell'intelligenza artificiale ma spesso gli strumenti di cui la media literacy education ancora si serve sono quelli che usavamo in fondo noi per analizzare i film e i prodotti televisivi procederò in tre passaggi userò un passo del libro di Paolo Zellini la dittatura del calcolo come punto di avvio della mia riflessione secondo passaggio ne ricaverò due argomenti che ritengo centrali oggi nella riflessione educativa su quella che i più definiscono la società dei dati e questi due argomenti centrali sono da una parte il nesso che si è venuto a determinare tra la misurazione e il controllo sociale e dall'altra parte il secondo argomento è relativo alla natura delle logiche che si muovono appunto dietro ai dati dall'analisi di questi due argomenti ricaderò in conclusione alcuni elementi utili per indicare la possibilità di una nuova prospettiva per l'intervento medioeducativo ecco spero farò di tutto per restare nei tempi parto dal passo di Zellini che scrive così nel suo libro a pagina 85 ponendosi una domanda che ne sarebbe oggi della nostra vita se l'operazione di censire fosse solo il punto d'innesco di un controllo sociale sistematico e invasivo che si avvale di metodi invisibili ai più e ben più complessi di una semplice enumerazione siamo circa a metà della dittatura del calcolo nella prima parte del libro Zellini aveva fornito una sua definizione dell'algoritmo secondo me molto efficace per essere compresa anche dal non specialista un processo meccanico deputato a risolvere un problema in un numero finito di passi aveva fornito questa definizione dell'algoritmo indicando poi con chiarezza quali ne siano le origini nella storia della matematica occidentale le rintracciava Zellini nella discussione sorta attorno al problema dell'infinito più precisamente si potrebbe dire che gli algoritmi più che al problema dell'infinito siano legati a quello dell'enumerazione degli elementi di insiemi finiti molto grandi e l'altro l'altra genesi la trova nella scoperta del calcolo matriciale ecco aspetti estremamente interessanti per uno non matematico come il sottoscritto perché la storia della matematica è sempre veramente molto interessante ecco nella seconda parte del libro a partire dal passo che ho citato il punto di vista di Zellini cambia non è più quello dello storico della matematica ma diventa quello dello studioso che si interroga sul valore sociale della disciplina ecco è qui che si possono registrare due annotazioni che credo meritano una riflessione nella prospettiva della media literacy education e che giustificano la mia tesi di partenza e cioè che la media literacy education abbia bisogno di un upgrade abbia bisogno di essere aiutata a ridefinire il proprio compito e i propri metodi ecco i due argomenti che Zellini introduce sono il primo lo anticipavo il nesso che esiste tra il censire cioè il misurare il tracciare in rete le nostre scelte e i nostri comportamenti e il controllo sociale e il secondo la natura invisibile dei metodi attraverso i quali questa operazione può essere compiuta ecco ma in questa frase troviamo anche conferma del fatto che oggi il problema non sono gli strumenti ma i processi e le logiche sottostanti o di sfondo rispetto ad essi e quindi concretamente il problema non è tanto quanto tempo passino i ragazzi con i dispositivi digitali in mano il problema della pedagogia nella prospettiva della media literacy education non è tanto di fornire agli studenti e ai ragazzi ai più e ai meno giovani strumenti di autoregolazione quanto piuttosto di accompagnarli a riflettere su queste logiche i big data grazie alla potenza di calcolo degli algoritmi divengono sicuramente una risorsa straordinaria in quasi tutti i settori della vita umana ma potrebbero costituire un rischio per la nostra libertà l'altro riferimento il riferimento alla invisibilità dei metodi porta in gioco il tema della trasparenza il tema della trasparenza così come ad esempio lo affronta Han di Ong Chul Han in un suo libricino che si intitola la società della trasparenza in cui discute il fatto che in una società dell'esposizione come la chiama lui quale è la nostra forse non tutto è esposto la trasparenza perché è un dato di fatto e forse ancora una volta soltanto una narrazione che prova a convincerci della propria credibilità perché forse non è vero che tutto sia così esposto non è vero che tutto sia così trasparente provo ad andare rapidamente in profondità sui due argomenti partendo dal primo le informazioni i dati rivestono una tale importanza nella nostra società da contribuire a costituire la realtà stessa di questa società la numerosità di questi dati li rende grandi e grazie alla potenza di calcolo delle macchine probabilmente per la prima volta nella storia dell'umanità ai ricercatori e ai decision makers è consentito di non ragionare più a campione ma potendo considerare l'intera serie di elementi che compongono un universo penso a quel che scrive Alex Pentland a proposito di una neoscienza di cui lui ha contribuito a gettare le basi la fisica sociale il cui specifico è proprio il superamento di quello che rappresentava il limite della ricerca quantitativa ovvero l'impossibilità di studiare un intero universo di dati e la necessità di limitarsi alla stratificazione di un campione oggi questa necessità non c'è più perché si può operare sull'intero universo dei dati essenziale per le politiche pubbliche il supporto alle scelte organizzative o alle strategie di mercato la fisica sociale consente ai decisori di prevedere il comportamento dei fenomeni delle persone anticipando il futuro e questo è un tratto distintivo di quella che da qualcuno è stata definita secondo me in maniera molto efficace la società del codice penso a un libro di Hansen del 2017 penso a un lavoro dello stesso anno di Salvatore Accoto la mole dei dati che in tempo reale si produce genera non solo una progressiva sempre maggiore intotalizzabilità del sapere ne parlava già Leti nel 94 quando descriveva quello che lui chiamava il secondo diluvio universale cioè il diluvio delle informazioni quanto avesse ragione lo sappiamo bene oggi quindi questa mole di dati non produce solo una progressiva intotalizzabilità del sapere ma anche soltanto una seria difficoltà per non dire l'impossibilità a gestirli a selezionarli a farne uso e qui in questa prospettiva occorre comprendere che l'aumento progressivo delle informazioni disponibili non corrisponde a un analogo aumento delle opportunità di chi li può utilizzare ecco se nel mio menu carattere dispongo di migliaia di font molto probabile che io finisca per utilizzare soltanto quei pochi che ho imparato a conoscere e che tutto sommato soddisfano già le mie esigenze le altre centinaia di font non verranno mai nemmeno esplorate sta qui credo il problema che gli algoritmi possono aiutare a risolvere applicando alla ricerca e alla selezione delle informazioni la stessa logica che sopra abbiamo visto funzionare nella prospettiva più generale della customer experience machine learning consiste esattamente in questo nel ricorso all'informatica per facilitare l'information retrieval e il knowledge management e quindi il mio assistente digitale dipana per me la complessità sovrabbondante delle informazioni che mi potrebbero interessare seleziona quelle che sulla base di quel che conosce dalle mie ricerche precedenti e dalle mie richieste seleziona quelle che ritiene mi possano interessare è una delle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale e abbiamo visto e Gino lo diceva che il programma dell'intelligenza artificiale è ripreso dopo che sembrava essere messo in scacco qualche decennio fa dal test di Turing è in piena ripresa ed è in piena ripresa non soltanto l'intelligenza artificiale ristretta ma anche quella che Tegmark chiama l'intelligenza artificiale generale ovvero quell'intelligenza artificiale che è in grado di modificare autopoieticamente l'algoritmo che l'ha generata senza nessun intervento del suo progettista qui vediamo già subito tutta l'ambivalenza di un programma che può sicuramente essere essenziale per la nostra sopravvivenza nel diluvio dei dati ma che dall'altra parte pone il problema anche etico di sé e come fidarsi di un sistema esperto perché ci riconosciamo aiutati a dirigere e orientare le nostre scelte ma non basta secondo versante e secondo argomento suggerito da Zellini c'è tutta una letteratura tecnopreoccupata molto tecnopreoccupata negli ultimi tempi penso ai lavori di Alpadin di O'Neill o di Nobel tutti i lavori scritti tra il 2016 e il 2019 c'è tutta una letteratura tecnopreoccupata che di recente ha posto l'accento su alcuni altri aspetti del problema che hanno a che fare con quelle logiche retrostanti a cui faceva riferimento Zellini nella seconda parte della sua domanda un primo tema è che la natura stessa del dato sembra essere radicalmente trasformato un tempo ci si riferiva al dato come a qualcosa di passivo a disposizione del ricercatore senza di cui il dato non poteva servire a nulla quindi una macchina pigra il dato oggi sembra invece che i dati siano diventati qualcosa di attivo e siano in fondo essi a guidare le intenzioni del ricercatore piuttosto che non il contrario è questo che fa suggerire a Zellini l'ipotesi di una vera e propria dittatura del calco qui giungiamo un po' all'esito ultimo almeno per il momento della società della datificazione che è il momento in cui questa società cede il passo alla società del codice come suggerisce Salvatore Accoto nel libro a cui facevo riferimento poco fa la prima intuizione di questa società va cercata nel lavoro di Lev Manovic che descriveva ancora agli inizi degli anni 2000 le caratteristiche dei media digitali ecco Manovic proprio sulla base di questo ruolo nuovo del codice proponeva di ritenere superati i media studies e affermava la necessità di parlare più opportunamente oggi di software studies la domanda principale di questo nuovo orientamento di ricerca potrebbe essere questa cosa accade al mondo del mondo dopo l'avvento del software ecco la risposta di Accoto è che il software detta al mondo le sue condizioni di pensabilità e anche di possibilità sostituendo o invitando a ripensare l'opposizione tra reale e virtuale che come sappiamo non è più efficace con quella tra il materiale e il programmabile quindi la vera coppia dice lui su cui oggi culturalmente bisogna riflettere non è più la coppia tra reale e virtuale ma la coppia di materiale e programmabile la caratteristica di questa società è di essere segnata dalla generatività dell'informatica dire che l'informatica è generativa significa riconoscerle la capacità di creare nuove porzioni di realtà di modulare lo spazio e il tempo di produrre proprio come nel caso del machine learning e dell'intelligenza artificiale nuove forme di vita nello specifico forme di vita artificiale e quanto allo spazio basta fare un paio di esempi il primo esempio è quello di un negozio che si differenzia da un magazzino proprio perché vi si possono concludere acquisti oggi grazie alla rete o alla lettura delle carte di credito e questo stesso negozio nel caso degli Amazon Store sempre grazie al codice rivoluziona completamente il significato del sito commerciale perché non occorrono più né sorveglianza né pagamento nemmeno il pagamento contactless il cliente entra viene riconosciuto dal sistema di telecamere i suoi acquisti vengono registrati e dopo che è uscito gli viene fatto il conto e glielo si addebita direttamente senza che abbia nemmeno percepito l'opacità delle macchine tra lui e il proprio mondo di azione ecco il codice trasforma il senso del luogo modifica la user experience la rende completamente altro da quella che è secondo esempio è quello della realtà aumentata è diventata sempre più un servizio di largo consumo basta pensare ai nuovi navigatori che visualizzano le indicazioni sulla direzione da prendere direttamente sull'immagine in tempo reale che la telecamera dell'auto ricava rispetto alla realtà aumentata essa si può concepire come un sistema di layers di fogli esperienziali che si sedimentano l'uno sull'altro espandono la nostra percezione dello spazio e anche la nostra possibilità di operare in esso quindi i dati stanno diventando qualcos'altro dati attivi ancora i dati non sono neutri quando un sistema esperto gestisce le iscrizioni universitarie o i licenziamenti in azienda il criterio a cui si ispira è quello dell'efficienza computazionale a discapito di altri criteri una considerazione più attenta dei profili delle matricole ad esempio la valutazione dell'impatto di un licenziamento sul contesto familiare dei lavoratori ad esempio proprio questa non neutralità dei dati suggerisce anche la loro capacità di influenzare le scelte delle persone quanto già succede nell'uso dei motori di ricerca e nella loro tendenza a usare le nostre scelte precedenti per suggerirci quelle future il mercato dice che questo è funzionale a farci risparmiare tempo a consentirci di orientarci tra una massa di dati così grande che da soli non la potremmo mai governare ma il sospetto è che invece si tratti di una vera e propria forma di influenzamento delle nostre scelte scrive Zellini forse è già successo l'irreparabile e il criterio più diffuso per confrontarci con la macchina non poggia tanto su una presente idea di coscienza o di libertà che nessuno sa definire quanto su una imperiosa categoria di efficienza a tutto vantaggio della macchina ma se l'efficienza diventasse l'unico vero scopo lo stesso pensiero rischierebbe di ridursi infine a una funzione puramente ancillare e allora sulla base di questa doppia rapida analisi provo ad arrivare alla mia conclusione che mi fa riprendere la domanda di partenza non è che abbiamo forse bisogno di ridefinire compito e metodi della media literacy education l'analisi che abbiamo condotto apre lo spazio per rilanciare sicuramente l'importanza del pensiero critico probabilmente anche la necessità di ridefinirlo oggi non può più ridursi il pensiero critico pilastro della media literacy education pilastro della cittadinanza digitale non può più ridursi al lavoro di decostruzione o di smascheramento che lo caratterizzava al tempo dei media mainstream oggi pensare criticamente significa a volte porre in discussione l'efficienza preferirle in maniera totalmente controintuitiva altri valori soprattutto elaborare strategie metodi di analisi molto ma molto più sofisticata della realtà che attraverso le forme mediali giunge a nostra portata di mano nel 2018 un paio di anni fa ho reincontrato dopo tanti anni David Buckingham eravamo a Lucca tutti e due per un convegno David nel frattempo si era pensionato dalla University of London anche un pochettino risentito per il trattamento che quell'università gloriosa gli aveva riservato per i tanti anni del suo apprezzabile servizio David è stato sicuramente uno dei più lucidi studiosi di media literacy e di media education degli ultimi 15-20 anni e in quell'incontro in quella chiacchierata David rifletteva su come il problema educativo nel caso dei media digitali sia spesso identificato oggi con il dispositivo e tornando su alcuni suoi contributi già degli anni 10 2007 2009 suggeriva in quell'incontro la necessità per una media education che si voglia pensare veramente in termini contemporanei la necessità di allargare lo sguardo più alle logiche che agli strumenti con quel che questo comporta per quanto riguarda la concettualizzazione proprio del senso critico infatti un conto è educare all'uso critico dello smartphone altro sviluppare consapevolezza riguardo al capitalismo digitale a come orienta quadri di pensiero e comportamento a come ci si debba collocare rispetto ad e alle pratiche sociali che promuove questo significa archiviare le soluzioni che la pedagogia aveva già prospettato al problema dei medi e le soluzioni erano sostanzialmente due la pedagogia del controllo e la pedagogia delle regole la pedagogia del controllo non funziona o funziona solo a certe condizioni e in ogni caso le questioni sono molto più complesse e sfumate come abbiamo visto di quanto essa non lascia intendere quindi non serve più la pedagogia delle regole semplifica i problemi per renderli comunicabili e spesso quasi sempre non è promossa da chi fa ricerca in ogni caso in tutti e due i casi sia quello della pedagogia del controllo sia quello della pedagogia delle regole per riprendere il discorso di Buckingham non si centra la questione infatti sia la pedagogia del controllo che la pedagogia delle regole insistono a ritenere che gli strumenti e non le logiche costituiscono il problema educativo mentre invece il vero problema o almeno per me uno dei problemi sicuramente più urgenti per la media education per la media literacy education è rappresentato proprio dalle logiche che oggi presiedono alla circolazione dei contenuti e alla definizione di comportamenti e valori dietro queste logiche si celano nuove forme di organizzazione della produzione e della distribuzione oltre che di definizione del valore si possono identificare con quello che ho definito capitalismo digitale che avrebbe bisogno di più tempo per essere analizzato nelle sue logiche c'è dunque bisogno di nuove literacies qui c'è un campo aperto per la ricerca che credo tutti coloro che si vogliano occupare di competenze digitali non in termini neofunzionalistici cioè non nei termini che servono ad inserire i futuri lavoratori nel mercato ma che si vogliano interessare veramente di competenze digitali nel segno della cittadinanza ecco il problema delle nuove literacies questi studiosi queste persone credo che se lo debbano porre credo che ce lo dobbiamo porre con grande serietà e grazie grazie professor Rivoltella l'interessantissimo interessantissimo intervento mi pare che c'era Edmondo che voleva fare una domanda sì buongiorno professor Rivoltella la ringrazio per il suo intervento che mi ha dato un'enormità di spunti in realtà io sono un dottore di ricerca in etica ed intelligenza artificiale quindi me ne occupo da un punto di vista filosofico e sociologico partendo proprio dalle ultime affermazioni relative alla pedagogia del controllo a quella delle regole fino al capitalismo digitale e alla visione anche di quella che è l'intelligenza artificiale mi viene in mente la visione degli STS studies con Bruno Latour quindi l'attore rete fino al concepire del software come un ente culturale quindi che effettivamente va le nostre percezioni e prestazioni attraverso l'utilizzo di una tecnologia onnipervasiva immanente così come chiaramente andare a studiare quelle che sono come affermava la Zubov come afferma Shoshana Zubov il capitalismo della sorveglianza la radicalità tecnologica di Adam Green fino ad arrivare agli iperoggetti di Morton quello che vorrei chiederle è tenendo in considerazione questo spettro così ampio questa multiprospettiva dell'intelligenza artificiale secondo lei quali sono ad oggi le attuali sfide nell'educazione della popolazione nel percepire la tecnologia quindi quella dell'intelligenza artificiale soprattutto nei suoi aspetti di retroagente in alcuni casi anche di predeterminazione delle azioni sul soggetto la ringrazio no no grazie grazie a lei complimenti per il suo lavoro credo che sia un approccio questo di cui abbiamo grande bisogno io credo che stiamo vivendo un problema di miopia storica o di ritardo endemico Roberto che come me si occupa di queste questioni da decenni può confermare sicuramente con noi abbiamo da poco cominciato a scoprire a livello macro sociale che esiste una media education e quindi abbiamo cominciato ora a provare a ragionare in termini con cui però nella media education si ragionava 20 o 25 anni fa questo è il tema quindi è una specie di come dire di di delay dal punto di vista strutturale dal punto di vista della ricezione macro sociale del problema che fa sì che quindi oggi si pensi di essere presenti educativamente sul problema dei media proprio nel momento in cui si prova a sviluppare pensiero critico e capacità di gestione dello strumento il problema è che la frontiera educativa si è già spostata avanti di almeno 20 anni rispetto a quello che questi sedicenti esperti molte volte pensano di di riuscire ad intercettare con la loro prospettiva e quindi c'è un problema drammatico di upgrade della consapevolezza sociale larga su queste cose è un problema è un problema da affrontare seriamente proprio nella misura in cui poi le questioni su cui occorrerebbe realmente ragionare sono sono quelle che conducono alla cosiddetta svolta ingiuntiva come la chiama Eric Saden la svolta ingiuntiva nello sviluppo delle tecnologie questa svolta ingiuntiva va messa in relazione con la capacità oggi di queste tecnologie di farci fare cose quindi credo che il tema vero sia oggi il carattere ingiuntivo della tecnologia e insieme al carattere ingiuntivo proprio attraverso il carattere ingiuntivo la questione dei dati su cui mi soffermavo allora oggi credo che lei che se ne occupa nella sua ricerca di dottorato lo sappia bene la frontiera ultima dell'internet of things è l'internet of toys e l'internet of toys significa una generazione di giocattoli tecnologici dentro i quali c'è un chip che lavorano attraverso il wifi di casa e la cui adozione il cui risultato è di consentire al mercato di mettere nel mirino il profilo del consumatore già quando ha solo pochi mesi di vita questo serve per capire il senso di quel che Floridi dice quando afferma che i media siano on-life sono talmente on-life che già a pochi mesi grazie ai primi giocattoli tecnologici cominciamo ad essere tracciati ecco credo che questa sia oggi la vera frontiera dell'educazione digitale o della media literacy education il problema è che il circuito di comunicazione degli studiosi e dai ricercatori non riesce a diventare il circuito della discorsivizzazione sociale larga su queste cose in maniera quasi quasi burdieriana il mestiere dello scienziato credo che sia uno dei libri più straordinari burdier noi andiamo costituendo sempre di più una rigida separazione tra l'arena di circolazione dei significati che riguarda gli specialisti ci parliamo in articoli tendenzialmente scritti in inglese che leggiamo in 12 e dall'altra parte l'arena della discorsivizzazione sociale che invece viene lasciata ai sedicenti esperti allora secondo me dobbiamo cominciare a pensare al modo di come comunicare i risultati della ricerca dentro quell'arena sociale dovremmo pensare al modo di spendere la nostra capacità di intellettuali dentro quell'arena sociale perché altrimenti non riusciremo mai a colmare il gap di quel ritardo non riusciremo mai ad avvicinare i lembi di quella distanza che descrivevo in partenza quindi la ringrazio per la domanda è una domanda rilevantissima credo cruciale per chiunque si occupi di digital literacy di media literacy education oggi grazie a lei davvero grazie e professore Oncaglia volevo fare anche io una domanda riguardo che scusa professore Voltella volevo fare una domanda perché sono d'accordo chiaramente sul pensiero critico la riflessione del fatto che il capitalismo si è appropriato cioè anzi ha generato esso stesso tutta questa massa di tecnologie di cui stiamo parlando e quindi poi ne fa un utilizzo non necessariamente favorevole dal punto di vista etico social morale se vogliamo secondo un certo tipo di etica e morale però volevo chiedere anche questa cosa non si rischia di entrare in una sorta di ipercriticismo e fare sì che poi dopo un po' buttiamo il bambino con l'acqua sporca nel senso che è vero sì che il capitalismo hanno consentito la nascita di queste tecnologie però già il fatto che noi per esempio stiamo parlando con un sistema di conferenza digitale che è stato pensato appunto cioè comunque se pensiamo a tutti gli strumenti di comunicazione come la messaggistica istantanea che è fondamentale per la vita per il benessere delle persone cioè la messaggistica istantanea anzi nel momento della pandemia è diventato l'unico punto a cui attaccarsi e quindi diciamo ci potrebbe essere tutto un utilizzo poiché noi siamo accademici e che non abbiamo nessun interesse diciamo economico dietro ci potrebbe essere tutto un utilizzo per esempio per tutti i problemi fenomeni sociali della povertà il disagio sociale e quindi cioè andare per esempio che sono fenomeni grandi importanti che sono difficili da affrontare che magari invece con l'utilizzo delle tecnologie potrebbero invece essere risolti quindi magari ecco appunto mi domandavo questa cosa qua se questa cosa della critica per carità cioè è la base di tutto questo pensiero critica repressivo non si rischi poi dopo di generare poi anche nella società sempre una sorta di e come si inibisca chi voglia poi appropriarsi queste tecnologie per certi fini va bene che potrebbero essere di grandissima utilità e di grande di grande interesse questa era un po' la mia domanda no concordo è chiaro che l'esito non può essere un tecnopessimismo sterile perché non porta da nessuna parte ma credo che la consapevolezza la coscientizzazione possa essere il punto di partenza anche per la ricerca di nuove vie ad un uso pro sociale politico nel senso etimologico del termine della tecnologia ecco quindi come dire vorrei non essere frainteso quindi il mio non è un arroccarmi sulla torre autoreferenziale di una critica pessimistica allora granscianamente pessimismo della ragione sempre ma anche ottimismo della prassi e della volontà ecco il pessimismo della ragione secondo me va alimentato poi come giustamente dice lei vanno create le condizioni per dare linfa e carburante all'ottimismo della volontà e della pratica assolutamente altrimenti altrimenti rimaniamo rimaniamo alla finestra a fare le nostre osservazioni critiche senza incidere in nulla sui problemi sono perfettamente d'accordo con lei grazie ancora professore Votella passiamo all'intervento successivo non credo che ci siano bisogno di presentazioni del professor Maragliano che ha insegnato presso il nostro dipartimento di scienze della formazione professore ordinario è considerato diciamo senza ombra di dubbio punto di riferimento e colonna per quanto riguarda gli studi sul rapporto del ruolo dei media tra soggetti e sapere di numerose e tuttora pubblicazioni e ringrazio e saluto il professor Maragliano e passo a lui la parola per l'intervento buongiorno grazie a tutti voi vi ringrazio di avermi anche in questa occasione chiamato se non sbaglio è la terza occasione di eduja è interessante vedere come come è cambiato e come siamo cambiati in questi in questi due anni no perché quando si è iniziato dato che ho partecipato a tutte le due edizioni precedenti a questa quando si è iniziato eravamo in un mondo di per usare lo schema alla eco che però non era di eco e lui ne soffrì fino alla fine eravamo in un mondo di apocalittici e noi eravamo presentati come degli integrati un po' strani che si interessavano a determinate cose adesso siamo in una situazione opposta cioè siamo in un mondo di integrati sono tutti integrati materialmente integrati e figuriamo da apocalittici lì c'è proprio il limite di quello che io volevo proprio dire potrei anche finire qui cioè apocalittici integrati come tutti gli schemi non funzionano gli schemi bipolari dobbiamo riuscire ad abbandonare ogni come dire ogni comodità legata appunto agli schemi bipolari per questo chiedo di poter aprire spero che voi mi saprete dire eventualmente se si se si vede sì le confermo perfetto allora io vado vado avanti allora appunto qui us regio e us religio voleva appunto essere la posizione del problema cioè signori miei ogni realtà presuppone una concettualizzazione adeguata a questa a questa realtà e qui avevo preparato questo questo inizio del del quadro di Goya involontariamente ovviamente non avevo ascoltato carlosini ieri però esattamente va in quella direzione lì cioè vedete qua ci sono dei 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 bastoni uno scontro di bastoni ecco uno scontro di strumenti che atteggiamento abbiamo noi rispetto a quello che sta avvenendo stiamo o da una parte o da un'altra puntiamo per l'uno piuttosto che per l'altro ma noi siamo spettatori e siamo come dire partecipi della stessa situazione cioè stiamo tutti nella melma come i due contendenti questo lo si vede anche proprio dal tono generale del dei colori quindi come dire che la dimensione della natura e della storia nel loro intreccio fa sì che ci siamo noi stessi coinvolti nel momento stesso in cui facciamo determinati discorsi cioè non possiamo pensare di risolverli tenendocene fuori cioè nel momento stesso in cui come Piercesaro giustamente fa riferimento alla media literacy beh dobbiamo anche ripensarci lì dentro cioè qual è il ruolo dell'alfabetismo nella media literacy cioè la media literacy è un come dire una forma più ampia dell'alfabetismo io penso di sì che siamo costretti a pensare ci piaccia o non ci piaccia che la media literacy tanto per dire insomma una formula però una visione anche ci costringa a considerare come elemento relativo l'alfabetismo il che allora vuol dire che la crisi della scuola la crisi dell'università è anche una crisi dell'alfabetismo il che anche vuol dire che questa crisi è anche una crisi del rapporto tra un sapere chiuso e un sapere aperto cioè l'accademia non può continuare a come dire a bearsi di un sapere chiuso specialistico iper specialistico perché si diceva prima molto molto bene c'è bisogno di un rapporto con l'esterno un rapporto con la cultura esterna non nei termini di una buona divulgazione ma nei termini anche della capacità di interpretare la cultura esterna la cultura la cultura popolare ecco questo mi sembra il limite fondamentale oggi della come dire del sapere accademico la l'incapacità di interrogarsi su quello che sta avvenendo e tra l'altro stiamo vivendo una situazione delle situazioni veramente di grossissima di grossissima trasformazione il tema della complessità è stato richiamato prima anche più volte anche da Gino è un tema ho trovato piuttosto interessante ultimamente proprio in questi giorni è uscita un'indagine di Scientific American sul sulla ricorrenza di determinate parole nel contesto degli articoli appunto di quella rivista che è in produzione dal 1845 ad oggi ancora viva c'è anche nell'edizione italiana e le scienze eccetera eccetera mi hanno fatto questa ricerca per festeggiare loro 175 anni di età sulle ricorrenze delle varie parole interpretate però in senso concettuali quindi le parole all'interno di determinate determinati brani determinate stringhe generali quindi una cosa un pochettino più complessa che una semplice ricorrenza di parole chiave e si è visto come si assiste dal dagli anni del 950 in poi quindi del secolo scorso metà secolo scorso in poi ad un incremento di ricorrenze della parola della parola complessità di che vuol dire comunque che qualche cosa sta avvenendo e forse lo possiamo capire meglio se in un altro elemento di ricerca che loro propongono sono tutte cose che si trovano in rete queste nel sito appunto di Scientific American il rapporto tra certezza e incertezza ecco guardate dall'850 quando praticamente c'era soltanto l'incertezza e la certezza scusate come l'elemento dell'incertezza comincia a crescere dal dal dopoguerra praticamente fino a diventare oggi diciamo la voce incertezza superiore come ricorrenze alla voce alla voce certezza vorrà pur dire qualche cosa questo perché non è soltanto una voce non è un flatus voci è cioè dobbiamo essere coerenti se c'è tanta incertezza ma non basta semplicemente evocarla vuol dire che viviamo una fase di trasformazione e allora dobbiamo essere capaci anche di interpretare dentro noi stessi questa fase di trasformazione e quindi fare i conti con le prospettive che sono anche le prospettive dominanti da una parte farò un discorso apertamente volgare ecco molto materiale nella linea appunto delle considerazioni che facevo prima cioè usciamo un pochettino dalla chiusura di certi linguaggi e di certi comportamenti specialistici e interroghiamoci invece con il mondo e sul mondo perché è il mondo insomma che ci costringe a cambiare in questo momento il mondo è fatto appunto di analfabetismo vogliamo dirlo ecco va bene sarà pure un alfabetismo ma quello lo dobbiamo interpretare lo dobbiamo conoscere lo dobbiamo praticare altrimenti il tecnodominio di cui parlava prima Piercesere sarà non solo vincente ma come dire non avrà interlocuzione minima ecco non avrà minimo contrasto ecco allora luogo corrente ancora adesso sui giornali alla televisione da tutte le parti nella mentalità spontanea della gente vuoi mettere la presenza perché la presenza vuol dire che ci si vede negli occhi mentre invece la distanza appunto lo dice la parola stessa è un elemento distanziale presa appunto presa di distanza appunto diciamo allora potremmo intanto cominciare a capovolgere il ragionamento vuoi mettere la distanza rispetto alla presenza cioè quali sono gli elementi che la distanza intendo la comunicazione di rete ti permette di praticare ma che sono impossibili nella presenza cioè nel comportamento di aula cioè che cosa la rete ha in più non solo in meno rispetto mettiamo alla stampa scusate ripeto la volgarità però non sento mai fare questo discorso ma d'altronde è il discorso che andrebbe fatto sul fatto che in questo momento noi facciamo queste cose se non ci fosse la rete se non ci fosse internet queste cose non le potremmo fare la chiusura delle scuole e dell'università avrebbe comportato diciamo così la chiusura di tutto quindi voglio dire c'è qualche cosa di più potente di più reale al di là diciamo delle strutture materiali della scuola dell'università intese come luoghi di costruzione dell'alfabetismo e infatti proprio perché siamo incaparci ecco di come dire di confrontarci con questi aspetti ci troviamo nel paradosso nel paradosso che quando siamo in presenza oggi nelle aule controlliamo la distanza per ragioni diciamo di covid ma che sono i ragioni della natura di cui parlavo all'inizio con il quadro di goia mentre quando si è a distanza si è costretti a controllare la presenza perché si è ancora succubi di 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 una situazione in cui la presenza è l'elemento dominante allora qual è il problema il problema è quello di far convivere diciamo queste diverse prospettive la prospettiva della complessità e la prospettiva della linearità era un problema no sollevato anche da da Gino ma bisogna essere di nuovo coerenti lo dico a me stesso ecco non possiamo linearizzare la complessità forse oggi come oggi è necessario riconoscere che complessità e linearità come tutte le dicotomie convivono ma allora vuol dire che cosa ha la linearità in più o in meno rispetto alla complessità che cosa ha la complessità in più o in meno rispetto a linearità alla linearità ma è un discorso che dobbiamo riuscire a fare in un in un'ottica più ampia ecco senza cadere sulla sulla dicotomia che è comunque fondamentale perché un elemento trae identità e riconoscimento dalla presenza dell'altro cioè non potrei essere per fare un esempio diciamo terra terra non potrei essere genuano come sono se non ci fosse la Sampdoria allora noi abbiamo una situazione in cui il sistema scolastico universitario è concepito e praticato come un sistema testuale dove l'elemento fondamentale è l'insegnamento l'insegnamento che determina si presume che determini l'apprendimento se non lo determina è a causa della difficoltà dell'apprendimento della indisponibilità di chi apprende abbiamo invece un altro tipo di idea corrente forse meno nelle istituzioni più nella nella vita quotidiana ecco della rete e dei social in cui la scuola intesa come imparare e insegnare è qualche cosa di reticolare dove l'elemento fondamentale cruciale quello che determina tutti gli altri l'iper determina è l'apprendimento allora se io provo a fare una mappa ma non in senso scolastico ma nel senso appunto quasi freudiano cioè i termini che ti vengono su i più spontanei una mappa della scuola insegnamento come vedete troverei dei termini che andrebbero tutti come dire riconcettualizzati in rapporto appunto alla scuola intesa come luogo dell'apprendimento allora chiusura analiticità individualità ripartizione sequenzialità additività confine scomposizione è il paradigma testuale delle discipline dei confini dell'isolamento del distacco della disciplina della disciplina cioè tutto il nostro sistema è costruito così e continua ad andare avanti in questa direzione però si prosciuga ecco questo è il problema del resto abbiamo d'altra parte nell'orizzonte più ampio della scuola sociale la scuola dove sia scuola che sociale sono virgolettate abbiamo altre dimensioni che sono quelle della globalità della comunità dell'apertura della connessione della libertà della socialità eccetera come mettiamo assieme questi due questi due insiemi noi pensiamo implicitamente perché questo ci condiziona a pensare la presenza di determinate strutture strutture materiali strutture concettuali che il la scuola dell'insegnamento consenta di interpretare questa scuola dell'apprendimento no no io credo che sia il momento di dirlo no la scuola dell'insegnamento la scienza dell'insegnamento non è in grado di misurarsi con i problemi che pone oggi questa scuola sociale dell'apprendimento una scuola fatta di connessioni di combinazioni di globalità ci piace o non ci piace non stiamo a dire che è bello e buono stiamo semplicemente da dire sto semplicemente dicendo che c'è questa realtà e con questa realtà dobbiamo fare i conti non abbiamo diciamo nel nostro sistema accademico e scolastico gli strumenti per fare i conti con questa con questa realtà e allora il capitalismo diciamo dei dati sarà anche è anche un prodotto della nostra incapacità di fare questi conti lo dimostra il fatto che tuttora sono presenti due incubi tutte e due infondati da una parte l'incubo che la scuola possa essere una macchina che la scuola di insegnamento possa essere una macchina e che un domani il robot sostituisca l'insegnante è già avvenuto è già avvenuto perché di fatto l'affidamento che la mentalità dell'insegnante fa al libro è un affidamento di questo tipo cioè l'affidamento ad una rappresentazione meccanica dell'insegnamento lì c'è quello che io debbo insegnare quindi il primo incubo diciamo così è infondato ma è anche infondato il secondo incubo cioè che un domani la la scuola dell'apprendimento diventi così efficace il capitalismo di cui si diceva prima così efficace da sostituire noi stessi cioè è quindi il robot che sostituisce la scuola bene già ci siamo anche di qua ci siamo è un incubo infondato se stiamo sempre fermi ad aspettare che le cose avvengano la rivoluzione diciamo che è avvenuta diciamo nella prima primo decennio del del nuovo secolo e che ha trasformato completamente i nostri regimi di vita bene è stata non interpretata da noi stessi e quindi adesso la subiamo cioè i big tech sono un nostro prodotto un nostro prodotto cioè un prodotto della nostra disattenzione del fatto che ci siamo consolati a dividerci tra apocalittici al 99% e integrati 1% tutte e due sbagliando e non abbiamo avuto come dire la disponibilità a non abbiamo maturato la disponibilità a confrontarci con questa realtà adesso siamo all'anno zero spero che paradossalmente la situazione drammatica che stiamo vivendo a livello mondiale per via del virus del coronavirus consenta di pensare questo 2020 anche come anno zero cioè un momento permettetemi questo elemento così di ottimismo ecco un pochettino di ottimismo all'interno del totale pessimismo della ragione di ottimismo della volontà cioè questo potrebbe essere l'anno di inizio di un lavoro di riconcettualizzazione perché siamo costretti a farlo lo saremo costretti anche dal punto di vista economico perché nel momento in cui si ritornerà nelle aule si ricostruirà un qualche tessuto educativo ci accorgeremo che non ci sono le risorse nemmeno economiche per fare quello che facevamo prima e che quindi molte cose dovranno essere abbandonate ecco dobbiamo pensare questa 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 stretta e quindi partiamo da qui cioè partiamo anche da quello che stiamo facendo in questo momento che è un'esperienza oggi diffusissima perché basta andare in rete uno trova continuamente offerte di questo tipo in cui convengono messe in gioco molti degli schemi fin qui ci siamo di cui fin qui ci siamo beati ecco e questi schemi vanno tutti ripensati vanno tutti rivisti vanno tutti riconcettualizzati sincrona sincrono presenza distanza suono immagini testo rete bisogna avere il coraggio di ripensare queste cose diciamo di allargare le maglie del nostro del nostro del nostro pensiero pensate anche soltanto del pensiero non solo quello esplicito ma quello implicito pensate anche come come utilizziamo determinati schemi ne abbiamo già parlato con Gino a volte di questo cioè riandando allo schema alla ONG di oralità primaria oralità o scrittura secondaria e scrittura ecco noi ce li rappresentiamo come una sequenza come se fossero appunto Dante no mentre il problema forse è meglio se lo accostiamo a Freud è un rapporto tra conscio preconscio inconscio tra superio io e l'inconscio ecco riusciamo a pensare che queste cose siano compresenti contemporaneamente lo so che è difficile lo so che è complesso ma noi abbiamo elementi tuttora molto presenti di oralità a mezzo tra il primario e il secondario e i limiti della scrittura di fronte a questa realtà cioè la parte che è sopra il mare la parte sposta la parte a galla come vedete è limitata e su quella troppo spesso noi facciamo ragionamenti indagini ma c'è tutta una parte sotto che è quella che poi muove la realtà ma anche la realtà sociale pensate cosa sta capitando in questo momento negli Stati Uniti è un conflitto sbaglieremo se pensassimo che è un conflitto tra ignoranti e colti per alcuni aspetti anche questo ma è un conflitto fondamentale di visioni diciamo dell'essere dello stare del partecipare non è soltanto un problema linguistico non è soltanto un problema di cultura in senso aristocratico è un problema di cultura in senso antropologico una cultura in cui c'entra il corpo in cui c'entra il suono in cui c'entra l'immagine una cultura che noi non siamo stati capaci di intercettare nel momento in cui avremmo dovuto e che oggi ci travolge perché non avevamo categorie perché ci siamo rifiutati e forse anche di confrontarci con questa necessità di ridefinire determinate categorie perché forse avevamo il sospetto che affrontare questo tema voleva dire mettere in discussione il luogo dal quale noi facevamo questo tipo di lavoro ma è proprio questa la frase il compito che ci attende in questo momento questo luogo è un luogo che si sta sgretolando questo punto di vista sta assumendo diciamo così una relatività che assomiglia sempre più al relativismo e quindi incapacità di mordere la realtà dobbiamo renderci capaci di ampliare e quindi differenziare diciamo le nostre posizioni io credo che l'occasione diciamo del coronavirus ci imponga un impegno di questo tipo ci imponga diciamo di ragionare va bene l'ho detto più volgarmente ecco io avrei finito con la mia esposizione rientro se ci riesco nel mondo penso di sì ecco grazie mi pare che ci sono delle domande da parte di Francesco Francesco non ti sentiamo almeno io no anch'io ma manca l'audio non lo sentiamo proprio manca l'audio confermato Francesco niente forse adesso sì prova 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 sì adesso sì adesso sì scusatemi no io volevo chiedere al professor Maragliano mi ha colpito particolarmente del discorso che ha fatto l'idea che in presenza controlliamo la distanza e che a distanza controlliamo la presenza poi l'ha ripreso anche dopo appunto parlando dobbiamo reinventarci o quantomeno metterci in discussione sui concetti fondamentali come appunto la presenza bene io devo raccontare questo aneddoto in realtà me lo sarei tenuto alla fine per l'intervento di stasera ma è perfettamente adesso calato nel contesto ero a mangiare al McDonald con mio figlio l'altro giorno e c'era una famiglia tutti e quattro sullo smartphone normalmente due figli grandi diciamo penso 15 anni una cosa del genere ma sentivo un audio esterno come una videochiamata costante a voce alta e non capivo chi fosse dei quattro che aveva questo telefono dopodiché mi sono reso conto che c'era uno dei due figli che stava seguendo la lezione a distanza dal telefonino e sostanzialmente nel frattempo mangiava con i genitori parlavano di altro eccetera e la cosa che mi è venuta in mente è istantaneamente collegando dal discorso di oggi è perché è così sopravvalutata questa presenza quando abbiamo video brevi su Instagram e TikTok che ci bersagliano il doom scrolling che si continua a fare sempre e a percepire appunto questi video come invasivi oppure poter vedere i video su YouTube anche questo stesso convegno qualcuno potrà a vederlo al doppio della velocità e non perdere completamente i contenuti molti dei miei studenti vedono i video a due velocità io stesso dico a lezione è videoregistrata non vi preoccupate se non ci siete in presenza se lavorate o meno risentitevela anzi al doppio della velocità che fate prima e soprattutto perché io cerco di garantire ai miei studenti una presenza asincrona cioè io cerco di rispondere anche dopo aver fatto la lezione su messaggistica istantanea come questo stesso Teams oppure Whatsapp e compagnia bella Telegram eccetera ma la cosa che mi chiedo quindi perché questa presenza è così sopravvalutata perché in realtà l'interazione sincrona è diciamo così fondante nonostante noi adesso si riesca a fare un convegno a distanza in questo momento grazie a questi strumenti dove stiamo sbagliando è solo una questione di tempo grazie beh no forse la risposta sta in quello che ho cercato di dire fin qui vedo se lo posso riassumere più sinteticamente come risposta cioè il problema sta nell'apparato tu sei parlava apparato ideologico di Stato forse era ancora limitato questo dovremmo pensare ad un apparato materiale di Stato che produce un'ideologia questo è proprio vogliamo di essere più marxisti del marxista un apparato materiale di Stato che produce una ideologia allora se cominciamo a pensare che quella ideologia non funzioni più è chiaro che dobbiamo ripensare anche la dimensione materiale di quell'apparato cioè la presenza chiaramente la crocetta di per sé è significativo nel momento in cui tenta di far concidere il visivo col tempo col perenne nel momento in cui invece tutto si sta fluidificando quindi il vero problema è nell'educazione come riesco a sollecitare l'altro non come riesco a controllare se c'è o non c'è per cui l'essere come dire insincronico o indiacronico cioè anche questo è una qualche cosa di mal posto perché devono convivere le due cose in questo momento noi siamo in sincronia però un domani se voglio risentire posso benissimo risentire per cui il docente ce ne sono il docente che impedisce di fare la registrazione non è un docente decente tutto lì io ho usato spesso questa formula fin dall'inizio del lockdown decenza dei docenti cioè il primo luogo è quello della registrazione perché che senso ha educare se non poi non sopporti un rapporto interattivo l'interazione vuol dire oggi poter interagire anche a distanza anche al di fuori della compresenza è evidente che se uno si mette in questa direzione deve ripensare il tessuto complessivo della scuola e forse allora andare anche a come dire a certi pensieri un po' più larghi avere il coraggio di prendere diciamo prendere dentro di sé il senso di determinati pensieri più larghi ecco allora tutto il discorso della della complessità sta lì cioè la complessità vuol dire allora è una cosa complessa e quindi la chiudiamo così no vuol dire accettare che la la situazione di complessità metta in crisi la possibilità di risolvere i problemi localmente cioè non è che li risolvi li devi affrontare negli ricollegamenti cioè l'oralità e la scrittura la presenza e la distanza ti pongono dei problemi che non risolvi dicotomicamente dicendo io sto con una squadra contro quell'altra che sono tutti brutti e cattivi no ma significa nel fatto che viviamo proprio grazie al fatto che esistono queste due squadre ma una alimenta l'altra e quindi allora questo dal punto di vista materiale significa che devi riuscire a fare una scuola aperta mi sembra che lo dicesse qualcuno nel novecento no mi sembra che in ambito pedagogico queste cose siano state dette sempre da di lui citato ieri da Reallosini in poi però non l'abbiamo mai messa in pratica l'abbiamo accettato che determinati discorsi potessero essere accolti a livello infantile e quindi si potesse fare una scuola aperta per l'infanzia non abbiamo mai voluto accettare che la scuola aperta significasse anche un ridimensionamento del ruolo chiuso anche positivamente chiuso dell'insegnamento secondario dell'insegnamento universitario e oggi ci ritroviamo in una crisi che è una crisi epistemologica oltre che politica materiale cioè tutta la divisione del sapere per discipline è chiaro che sta saltando perché poi di fatto chi arriva Trump e vince e allora questo lo devi capire perché tu l'hai fatto vincere guardate è probabile che non vinca no è ovvio mi sembra di capire però vincerà comunque vincerà la sua forza perché la gente sentirà sentirà questa questa ferita e noi non possiamo continuare a dire la dobbiamo interpretare quella 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 ferita grazie ma non so se io posso fare una riflessione anche una domanda se praticamente sul discorso della presenza e della distanza cioè la metto in maniera semplicistica se io mi devo sentire con un mio amico mi posso sentire benissimo al telefono c'è qualcosa da dire ci sentiamo al telefono ci possiamo mandare anche un sms però una cosa è che io mi vedo con lui magari vado a fare un aperitivo mi vedo al bar o faccio una cena insieme con un amico con una persona con affetto quindi c'è un po' a me sembra che il discorso della presenza è proprio radicato profondamente non fai mai non faresti mai un aperitivo online dici va bene ma che differenza c'è ci sentiamo tu bevi il tuo apero io bevo il mio apero siamo online che cosa cambia farlo in presenza a distanza in effetti in tante situazioni è così però tante volte uno dice beh ma io queste cose non le facciamo per telefono vediamoci incontriamoci e quindi c'è qui un aspetto psicologico adesso non so come spiegarlo non è il mio campo però voglio dire ci sono queste certe cose che tu le escludi a priori non faresti mai una cena a distanza con i parenti di casa per dire io non so chi la potrebbe mai fare però tu dici che problema tu ti fai la tua lasagna a casa tua io mi faccio lasagna a casa mia ci mettiamo di fronte allo schermo e mangiamo insieme ecco domando io questa è la domanda che io vi pongo mi sembra che l'aspetto della presenza poi questo e questo lo trasportiamo al rapporto interpersonale dell'insegnante con i propri allievi con i propri studenti e facciamo il parallelo ecco lì che se uno dice ma quante resistenze ci sono a fare la didattica a distanza utilizzare gli strumenti a distanza perché proprio non lo percepisco non lo riesco a percepire mi domandavo appunto quindi se non è proprio intrinseco è proprio culturalmente impossibile distanziarci dalle cose in presenza ma io penso che sia più una ragione materiale che non una ragione culturale perché di fatto c'è tutto un filone della cultura anche della cultura classica letteraria che ha elaborato questa tematica da Don Quixote a Madame Bovary l'immaginario è fondativo del senso di realtà è vero che Sancio Panza vive più di Don Quixote e che Don Quixote a un certo punto muore però è anche vero che Don Quixote come dire tutto sommato vive bene riesce a sopravvivere con quella sua cultura alle botte che gli vengono dalla realtà invece come dire Sancio Panza le sente molto di meno è anche vero che Madame Bovary si innamora cioè riesce a fare un'esperienza di amore proprio leggendo cioè se non avesse letto probabilmente la sua vita sarebbe stata più misera cioè quindi questo elemento c'è poi naturalmente poi uno pensa soltanto alla conclusione quindi si è solicidata per questo no ragazzi stiamo parlando di un elemento fondamentale della nostra identità per come è stato elaborato ormai da secoli solo che noi lo vogliamo continuare a trascurare ma per quale ragione perché siamo vittime di una guerra tra media ma media in senso materiale ecco di media strumenti ecco siamo vittime non abbiamo voluto prendere parte abbiamo noi in quanto rappresentanti del medium fondamentale editoria stampa siamo stati battuti dalla televisione completamente in questo cioè non abbiamo saputo fare i conti con la televisione e ancora più battuti dal medium digitale ecco e quindi ci ritroviamo oggi di fronte ad una cultura che inevitabilmente non riesce a essere a passo con i tempi cioè queste considerazioni che tu mi stai facendo adesso sono considerazioni che un ragazzo non fa ecco perché un ragazzo certo se gli fai una domanda esplicita lui risponde nei termini tuoi ma materialmente no cioè non gli abbiamo dato gli strumenti per capire che quello che lui fa cioè l'integrazione tra presenza e distanza cioè l'on life è una come dire è una condizione di vita giusta oggi giusta ci piaccia non ci piaccia è giusta è la realtà e quindi diamogli noi come università dovremmo dargli gli strumenti per accettare criticamente quella realtà cosa che invece non riusciamo a fare prima perché prima pur avendo egemonia no diciamo in ambito scuola editoria quindi scuola libro scuola stampa non abbiamo dato a questi ragazzi gli strumenti per capire quali erano i limiti della rappresentazione a stampa della realtà perché i limiti c'erano e infatti si è visto che cosa è capitato e che cosa sta capitando nel mondo e quindi dovrei riprendere il discorso dall'inizio basta grazie grazie a voi grazie professor Maragliano grazie c'è un'altra domanda che intanto saluto e ringrazio sempre per la disponibilità per questo per questo evento di Lugia che un po' riprendendo le sue parole è più un luogo da abitare cerchiamo insomma di farlo diventare come tale insomma volevo chiederle se dal suo punto di vista in questo periodo di emergenza ha visto dei germogli di quello che lei chiama la zona franca e se sì dove e se no quali potrebbero essere i terreni dove la zona franca potrebbe crescere ma io penso che i germogli c'erano già prima e quindi si tratta adesso di semplicemente di fare rete ecco nelle scuole ecco perché non me la sento oggi di fare un discorso sull'università perché sono fuori da un po' di tempo ma invece nelle scuole sono in continuo contatto i germogli ci sono il problema è che non gli si consente di fare rete e dovranno farlo dal basso ecco anzi tutta l'operazione dall'alto è tutta un'operazione diciamo così di messa in discussione della possibilità di fare di fare rete perché vi passa l'idea che questa condizione attuale sia provvisoria sia come dire un qualche cosa che è stato trovato al momento per sopravvivere mentre invece è una svolta fondamentale una svolta poi involontaria o volontaria questo non lo so ma nel momento in cui si è detto alle scuole mostri e chiuse andate in rete e mi raccomando trovate soltanto ciò che è gratuito praticamente si è fatto una rivoluzione diciamo che dal 1860 non era mai stato avvenuto non era mai avvenuta cioè praticamente si è consegnato a tutta la scuola e tutto il pensiero scolastico ai big tech cioè questo perché perché le zone franche che c'erano prima che avevano si erano sempre battute per il fatto di costruire una consapevolezza sulla gestione dei dati ecco queste piccole isole non sono riuscite mai a fare arcipelago e quindi non sono riuscite a far entrare una cultura di attenzione a queste problematiche che adesso poi sono profondamente scoppiate adesso sono interne non c'è più niente ormai la scuola è là è difficile che si torni alla scuola di prima ormai i dati ce l'hanno tutti i big tech è finita è finita l'egemonia dell'editoria ma per responsabilità anche interne all'editoria perché adesso ci vorrà un niente appapparsela perché adesso loro hanno tutti i dati gli sono stati regalati gli sono stati regalati nel giro di un minuto tutti e quindi questa cosa è un po' scomoda da dire ma l'ha fatto anche l'università però bisogna riconoscere che è avvenuta è avvenuta grazie grazie ancora professor Maragliano passiamo al successivo intervento la professoressa Susanna Sancassiani che è managing director del centro per i metodi e tecnologie innovative della didattica del Politecnico di Milano dove insegna teaching methodology and strategies and styles alla scuola di dottorato è stata docente di multimedia design digital service design ed è membro del comitato scientifico della SIE e autrice di numerose pubblicazioni non è caso bene prego quindi le lascio la parola a professoressa benissimo grazie grazie mille grazie per questo invito che mi ha fatto enormemente piacere soprattutto sono incredibilmente onorata di essere in questa sessione con rappresentanti così significativi di tutta quella che è stata la storia dell'incrocio tra le tecnologie e l'apprendimento e davvero un grande ringraziamento a partire da Gino Roncaglia per Cesare Rivoltella Roberto Maragliano è stato bellissimo ascoltarvi e un grande ringraziamento anche per quanto siete stati gentlemen perché mi fate iniziare davvero il 12 e 15 cioè non avrei mai immaginato di iniziare in orario dopo una mattinata con dei nomi così importanti è molto difficile dire qualcosa in più dopo quello che avete detto voi di sicuro ho capito meglio quello che sto per dire e quindi già di questo vi ringrazio provo a a prendere proprio la palla la palla al balzo rispetto a quanto diceva Roberto Maragliano sul fatto che ormai ci sono una situazione in cui ragionare per schemi bipolari è una scelta assolutamente perdente e allora se nel mondo dell'intelligenza artificiale abbiamo sempre assistito a questo gioco interessante di vai e vieni tra l'intelligenza artificiale che aiuta a spiegare come funziona il cervello umano e le neuroscienze che aiutano l'intelligenza artificiale ad imitare il cervello umano penso che adesso dovrebbe proprio essere il momento di quelle riflessioni molto interessanti che sono state fatte già a partire dagli anni sessanta su come si fa su come già naturalmente il nostro cervello ha delle spiccate attitudini nel superamento dei bipolarismi e nell'integrazione tra dimensioni diverse se ricordate Arthur Kostler negli anni sessanta col suo The Art of Creation che è una cosa straordinaria che lui riflette sulla metodologia della ideazione creativa in tre dimensioni due abbastanza scontate le scienze e le arti la terza molto meno scontata l'umorismo e già è geniale mettere insieme queste tre cose vedere l'umorismo come una dimensione nella quale nasce creatività dell'uomo e dalla sua riflessione la sua tesi di fondo qual è che la creatività nasce quando si incrociano due piani mentali che fino a quel momento erano vissuti in modo in modo parallelo non è l'unico che ha portato avanti naturalmente questa riflessione sull'importanza nel pensiero umano della integrazione su dimensioni diverse molto più recentemente Fauconier e Turner hanno proposto questa tesi estremamente interessante nelle quali proprio la costruzione di significato dai significati più banali della vita quotidiana a quelli più astratti avviene proprio grazie all'integrazione selettiva se non addirittura proprio la fusione tra significati elementari appartenenti a piani concettuali differenti allora da queste teorie sull'ideazione e la creatività che derivano dall'osservazione e dallo studio anche empirico e insomma derivandone però poi dei modelli teorici di notevole robustezza probabilmente l'intelligenza artificiale già ha iniziato in alcuni contesti ad assumere qualcosa ma potrebbe fare anche di più e come giustamente diceva Roberto Maragliano questo non è più il momento delle polarizzazioni ma è proprio il momento delle integrazioni la prima integrazione quando parliamo di didattica che stiamo vivendo nella nostra quotidianità è in aula e online in aula e online allora si è molto demonizzata la scelta dello stare in aula e online contemporaneamente come se fosse la peggiore delle scelte possibili in realtà lo è la peggiore delle scelte possibili perché la tecnologia che abbiamo a disposizione anche su piano commerciale ci dà ancora delle risposte estremamente modeste che non ci permettono del tutto se non a costo di un impegno molto forte che io ho provato personalmente e si riesce a mettere in gioco ma insomma un impegno veramente intensivo non ci permette di creare dei contesti veramente integrati audio video tra una realtà fisica presenziale e una invece digitale cioè creare effettivamente una comunità mista in aula e online che funzioni in modo integrato sincrono e asincrono nel tempo con una totale naturalezza e fluidità in questo momento è possibile arrivarci con fatica mettendo insieme elementi che vengono da vari mondi tecnologici quindi c'è un territorio rispetto al quale aspettiamo ancora tante risposte andiamo intanto a vedere che cosa è possibile fare e con che limiti quando parliamo di aula estesa cioè di aula che funziona contemporaneamente in presenza e online sia nella dimensione sincrona che in quella poi asincrona si possono fare delle cose magiche con l'intelligenza digitale con l'intelligenza artificiale per esempio si può sfumare il docente nel senso che è possibile andare attraverso un sistema dedicati a digitalizzare man mano che si crea l'immagine costruita sulla lavagna e far sfumare progressivamente il docente dietro alla lavagna in modo che quanto è scritto sopra la lavagna sia sempre visibile anche quando lui ci sta davanti cos'altro è possibile fare? è possibile agganciarlo con delle telecamere brandizzate che ruotano e riconoscono il viso del docente sono in grado vedete qua c'è uno sfondo molto ampio il docente si sposta lungo questo sfondo eppure la telecamera continua a seguirlo noi abbiamo sperimentato queste tecnologie che vi sto aumentando qua nell'Educafè che sta qui accanto al mio ufficio effettivamente funziona uno si mette di taggancia e ti segue un po' più articolato il discorso di andare a sottotitolare e addirittura a tradurre quello che dice il docente sia per chi sta a distanza che per chi sta online allora l'esperienza ci dice che queste sottotitolazioni automatiche funzionano quasi benissimo in inglese assai meno in altre lingue il tema della traduzione è ancora estremamente come posso dire poco poco cioè non è ancora del tutto affidabile se non per i passaggi tra alcune lingue specifiche per esempio tra l'inglese e lo spagnolo già sono stati fatti dei passi avanti molto grandi ma con altre lingue assai più complesso quindi cosa che noi immaginiamo tutto sommato a portata e che ci sono state raccontate da anni che ancora invece faticano a trovare una loro concretizzazione pratica ma dalle quali intuiremmo per tantissimi motivi l'utilità un'altra possibilità che ci dà l'intelligenza artificiale è quella di dare spazio anche agli studenti andando a brandizzare in modo automatico una telecamera e a focalizzare la ripresa dell'audio in una direzione sulla base di un movimento per cui si alza in piedi e il sistema è programmato in modo da andare a fare lo zoom su di lui e a raccoglierne l'audio oppure viene attivato dal momento scusate era un audio di sottofondo tutto posto sì posso proseguire prosegua professoressa c'è stato un ritorno di audio era un ritorno benissimo ecco dico per esempio questa zoom sull'utente può anche funzionare con altri sistemi come quelli per esempio di Cisco attivati dall'audio per quel momento in cui uno inizia a parlare viene agganciato dalla telecamera e messo a fuoco e magari anche con sistemi di audio intelligenti che mi vanno a tagliare il brusio di fondo se c'è il brusio di fondo e a valorizzare soltanto quello che è l'audio principale allora vista così questa tecnologia messa a disposizione dall'intelligenza artificiale commerciale e quindi qua non parliamo più di ricerca ma parliamo di prodotti in commercio avrebbe i presupposti per mettermi nelle condizioni di avere una dimensione armonica e fluida tra una comunità online e una in presenza ma quando andiamo nella realtà ci accorgiamo di alcune cose che quei sistemi lì molto interessanti funzionano con le aule piccole infatti non a caso questa immagine fatta con un'aula piccola cioè se andiamo oltre ai 15-20 metri di profondità non c'è nessuna possibilità in questo momento commerciale di poter far funzionare sistemi di questo genere lo stesso diventa complicato se il docente non sta in uno spazio predefinito ma decide di muoversi nell'aula magari in un'aula grande e molto più articolato diventa il problema se io penso come faccio io normalmente di gestire un'aula attiva e non un'aula in cui ci sia una didattica frontale trasmissiva allora in quel caso questi strumenti denunciano tutte le loro le loro difficoltà e non non dico che non si riesca a farli funzionare non si riesca ad attivare una dinamica di integrazione positiva tra chi sta online e chi sta in presenza ma ci sono dei problemi assolutamente banali come per esempio l'amplificazione contemporanea dell'audio di chi parla da fuori e di chi parla da dentro alla classe parlando di gruppi di studenti che non è ancora risolta con prodotti commerciali in modo affidabile allora io ci tenevo a fare questo discorso nel quale ho ripetuto 4.000 volte l'aggettivo commerciale nel senso che in questo momento la distanza tra quella che è la ricerca e sono le frontiere della ricerca dell'intelligenza artificiale e gli strumenti che la didattica ha realmente a disposizione per superare quei bipolarismi di cui parlava Roberto Maragliano sono ancora estremamente limitati e possono fare tanti grandi passi avanti e mi aggancerei anche a quanto citato prima da Gino Roncaglia sul fatto che giustamente come lui diceva l'intelligenza artificiale si è sempre basata su una visione assolutamente cioè che metteva al centro l'idea del linguaggio e la capacità di uso del linguaggio come elemento significativo di costruzione dell'intelligenza qua sta un problema sta un problema proprio sta un peccato originale dell'intelligenza artificiale che secondo me è tra le cause non la sola ma tra le cause che danno origine a questa suine adeguatezza attuale dal punto di vista delle applicazioni perché non ha tenuto conto di altri possibili paradigmi come per esempio quelli che ci vengono dall'antropologia che ci suggeriscono come dice Michael Tomasello che invece l'unicità dell'uomo invece oppure anche che forse è più interessante l'unicità dell'uomo viene anche dall'essere in grado di condividere un'intenzionalità cioè di essere in grado di cooperare collaborare sulla base di un'intenzionalità condivisa costruita sulla base di una socialità cognitiva e voluta questi modelli se noi andiamo ad osservare come funziona in questo momento l'intelligenza artificiale messa a disposizione della nostra didattica appaiono assolutamente sconosciuti come se il tema della collaborazione della cooperazione dello scambio dell'integrazione fosse assolutamente assente proviamo a guardare quello che avviene solo nella dimensione online per cui dici sai magari la dimensione dell'integrazione tra online e presenza una dimensione un po' di frontiera vediamo nei contesti più consolidati come quello dei messi online open online che cosa è successo con l'intelligenza artificiale visto che se ne parla da anni e che sono esplosi dal 2014 per cui ci aspetteremmo di trovare delle cose straordinarie allora se vi usate e siete degli utenti dei progettisti dei docenti dei di MOOC non vi accorgete di niente di significativo e questo mi sembra interessante per trovare qualcosa di significativo bisogna andare a vedere le ricerche allora sicuramente l'intelligenza artificiale è molto 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 utilizzata dai provider Coursera di X e Udacity eccetera per modellizzare gli utenti ma per modellizzare gli utenti per fare che cosa per promuovere poi loro presso di loro l'offerta formativa che è alla base del loro business perché sono comunque realtà che sono anche basate su un business se lo vediamo dal punto di vista della didattica quello che troviamo nella ricerca è che l'intelligenza artificiale è stata usata nei MOOCs per esempio per modellizzare gli studenti quindi le tipologie di studenti ed estrarne tutta una serie di diverse categorizzazioni ma non si vede ancora chiudere il cerchio e una volta che ho stabilito che questi studenti si articolano in a committed crowd engages discussion initiators and strategies e cosa ne faccio come strategia educativa al momento se siete frequentatori di didattica digitale online non trovate che casi assolutamente sporadici assolutamente non mainstream di risposta a queste modellizzazioni che vediamo emergere da tanti e diversi studi l'altra cosa che invece secondo me è abbastanza inquietante è la ricerca basata sull'intelligenza artificiale che si propone di andare a modellizzare il processo d'apprendimento allora lì la mia esperienza che può essere limitata per cui mi scuso in anticipo se invece mi sono persa un intero filone di straordinari risultati è che c'è un'inquietante prevalenza di analisi in cui si vede prevalere il concetto della correlazione inteso come elemento di causalità per farvi sorridere un attimo riportavo questo simpatico grafico che illustra bene come causalità e correlazione non abbiano nulla a che vedere mostrando come apparentemente se vado a vedere il numero delle persone morte annegate e il numero di film che pubblica emessi nelle sale da Nicolas Cage c'è una correlazione straordinaria vedete la curva proprio sale e scende esattamente quindi potrei sarei autorizzato a trovare una relazione di causalità tra i film di Nicolas Cage e il numero di morti affogati nelle piscine americane purtroppo devo dire che questo che quando ci sarà di fronte alle grandissime moli di dati la tentazione di dire che la correlazione sia causalità quando si parla di processi di apprendimento sembra contaminare molte dinamiche d'altra parte a volte vengono fuori anche risultati interessanti che si sarebbe tentati di prendere alla lettera per esempio da questa ricerca che cito lì sotto è basata su una pura analisi di correlazione emerge che gli studenti che imparano attraverso attività risultano mostrare migliori risultati di apprendimento rispetto a quelli che frugiscono esclusivamente di contenuti questo nell'ambito di MOOC e questo è un risultato che io mi prenderei molto volentieri cercando di far finta di niente rispetto al fatto che forse non si è distinto bene tra correlazione e causalità un'altra direzione interessante che però ancora assolutamente non ha contaminato il mainstream è la possibilità data dall'intelligenza artificiale nei corsi online di migliorare l'interazione con i contenuti come già accennava Gino Roncalia per esempio attraverso la costruzione dinamica in tempo reale di cloud di parole che accompagnano la fruzione di un video e che me ne consentono la navigazione autonoma a partire da delle chiavi testuali o ancora di migliorare l'interazione con l'altri attraverso delle rappresentazioni dinamiche delle modalità di discussione dell'interazione all'interno di forum facilitando il reperimento dei punti chiave di discussione la connessione con chi può essere proprio chi sta portando dei thread di maggiore interesse con noi poi naturalmente c'è tutto il filone del supporto alle valutazioni e alle autovalutazioni in cui la dinattica del controllo la fa assolutamente da padrone ma l'intelligenza artificiale usata come strumento di valutazione e autovalutazione a forse il settore che ha avuto un maggior sviluppo proprio in termini applicativi in contesti più ampi in particolare nell'insegnamento della programmazione perché sia per la natura stessa dei docenti che ci si applicano sia per la materia il dominio il dominio disciplinare che facilita questo tipo d'approccio effettivamente l'idea risulta interessante quello è l'unica dimensione che sembra cogliere un vago spunto dell'idea che esiste la dinamica di collaborazione in modo significativo è quella che vi ho visto fatto vedere prima riguardo al miglioramento delle possibilità di navigazione nei forum e su questo ci sono varie opzioni sviluppate dall'intelligenza artificiale e l'altro è quello del peer grading anche lì sistemi di peer grading supportati dall'intelligenza artificiale effettivamente sono disponibili funzionano e supportano soprattutto se ho a che fare con grandi numeri il docente nella gestione di questi processi che gestiti in modo manuale sono sostanzialmente impossibili ma ma come sulla didattica in presenza e l'integrazione tra didattica in presenza e didattica online abbiamo visto dei grandi limiti li ritroviamo anche qui dove sta nei supporti alla collaborazione la collaborazione non significa solo forum nel mondo digitale io con i miei con i miei studenti lavoro tantissimo usando lavagne condivise a Miro che mi consente di condividere questi spazi immensi in cui mettiamo tutti i nostri materiali per gruppi tutti insieme secondo degli schemi secondo delle flowchart secondo delle mappe logiche come in base a quello che serve insomma la collaborazione non è solo basata sui forum e l'integrazione sempre per tornare al tema così ben raccontato e proposto da Roberto Mariano dell'importanza dell'integrazione del superamento di questi schemi bipolari e l'integrazione tra collaborazione sincrona e asincrona l'integrazione tra contenuti e attività l'integrazione con i contenuti dinamici del web cioè sembra che siano territori sui quali non c'è mai stata ma proprio neanche un inizio di riflessione che non trovi nulla non che non trovi la risposta commerciale non trovi neanche l'inizio della della riflessione non trovi neanche l'inizio della riflessione dove però magari potremmo trovare la riflessione già conclusa senza neanche esserci accorti sono i contesti in cui l'intelligenza artificiale è applicata alla didattica voglio dire sta facendo probabilmente dei passi avanti che non stiamo leggendo allora ho letto in questo interessante rapporto fatto dall'UNESCO sul rapporto tra intelligenza artificiale ed educazione rispetto al tema dello sviluppo sostenibile come la Cina sappiamo tutti che ha messo come suo obiettivo strategico il fatto di diventare il polo di riferimento mondiale per gli sviluppi dell'intelligenza artificiale entro il 2030 quello che forse si sa meno è che l'insegnamento e l'apprendimento sono stati messi all'inizio tra i punti strategici dell'agenda e qualcuno avrà fatto caso che ultimamente perfino i dati sui MOOC non si trovano più dei MOOC cinese gli scorsi anni la C-Tanks io sicuramente l'ho pronunciato male che era una università un'università cinese che aveva promosso tutta una serie di offerte attraverso i MOOC era improvvisamente balzata da zero ad essere uno tra i principali provider mondiali dopo di che è scomparso dalle statistiche perché i dati non sono stati più racconti e stanno succedendo lì cose non tanto note ma interessanti guardate quanti iscritti ha questo portale che si propone come Your Personal AI English Teacher 185 milioni un altro caso che viene riferito in questo report dell'UNESCO è quello di un sistema per la correzione automatica dei saggi che da diversi anni viene sperimentato in più di 60.000 scuole quindi immaginiamoci la mole di dati che è stata raccolta allora si parlava prima e Piercesare ha fatto questo riferimento molto importante al capitalismo del dato al mondo dato di accoto eccetera il capitalismo del dato cinese potrebbe essere un capitalismo diverso da quello a cui siamo abituati senato perché la sua relazione col sistema materiale istituzionale è completamente diversa e la sua relazione con il sistema delle agende politiche è completamente diverso ma nello stesso tempo però non è diversa la logica del profitto e l'idea che queste realtà che sono realtà aziendali for profit si inseriscano in modo assolutamente organico dentro a un'agenda di un paese che riesce a fare ancora programmazione almeno a dieci anni se non oltre e contando su centinaia di milioni di utenti tutte le volte che fa un'iniziativa potrebbe portarci improvvisamente ad avere un'offerta commerciale di prodotti per l'educazione basati sull'intelligenza artificiale che seguono logiche dal punto di vista valoriale ed educativo che ci sono assolutamente strane che però sono vincenti dal punto di vista del mercato cioè chi va a formare questi 185 milioni di cinesi che vogliono imparare l'inglese se non un sistema di questo genere ne facciamo adottare dieci da ogni famiglia inglese per il resto della loro vita cioè c'è un problema di scala rispetto al quale l'intelligenza artificiale può dare risposte può dare risposte ecco sulla qualità di queste risposte allora insomma tutti abbiamo in qualche momento della vita incontrato la stanza cinese di Searle nella quale il povero mino che sta dentro ignora tutto del cinese e casualmente è proprio la scatola cinese non ha fatto il povero che non capisce niente di cinese però gli danno un input che è una domanda e lui ha un manualino per decodificare in base al quale dà la risposta dall'altra parte e senza capire nulla questa era la critica di fondo di Searle senza capire nulla l'intelligenza artificiale decodifica allora sul fatto che tuttora l'intelligenza artificiale adesso io non voglio entrare su discorsi troppo profondamente hanno una dimensione semantica legata all'intelligenza artificiale che ci porterebbe molto lontano ma saldo sempre su quello che è disponibile in questo momento per le persone pochi giorni fa è diventato virale questo video che potete trovare online non so se in tanto parte ve lo faccio vedere ma altrimenti è immediatamente comprensibile il significato che fa vedere come in l'intelligenza artificiale in quel caso non è in grado di riconoscere la testa del del guardaglini rispetto alla alla palla la pubblicità forse di Google è un po' lunga però ecco benissimo adesso lo possiamo vedere vedete che la telecamera brandizzata continua ad andare ad inquadrare il il guardaglini perché la sua testa calda e perfettamente stridica viene continuamente confusa con la palla e questa è una cosa che accadrà poco poco tempo fa pochi giorni fa quindi facciamo riferimento all'intelligenza artificiale vera nel senso vera quella concreta con la quale ci troviamo a fare i conti quindi sul fatto che CERN avesse ragione continui a avere ragione quanto meno per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che abbiamo portata di mano sul fatto che l'intelligenza artificiale decodifica anche senza capire il problema però ci resta comunque perché dice ma allora cosa facciamo rispetto a questi centocinquanta centottantacinque milioni che vogliono imparare l'inglese ci interessa creare un contesto cooperativo tra l'intelligenza artificiale e la capacità umana di discernere distinguere di guidare un processo collaborativo attivo e accogliente verso dei risultati di apprendimento condivisi per il quale è assolutamente indispensabile una comprensione di un livello più alto capace di costruire un senso rispetto al quale l'intelligenza artificiale nelle sue concretizzazioni disponibili non sembra ancora all'altezza oppure ci interessa formare centottantacinque milioni che siano in grado di apprendere quelle con offensabilità chiave il problema resta secondo me che il cosa apprendo non è mai distinto dal come cioè il come comunque mi porta a una dimensione educativa valoriale fortissima mi porta alla quale probabilmente non possiamo rinunciare se vogliamo restare dentro a un certo sistema di valori ma nello stesso tempo siamo interrogati dal tema dello scalare dimensionalmente ecco quindi il territorio che giustamente voi avete avvocato di incontro tra l'accademia e l'impresa tra l'accademia e la società civile nella quale l'accademia possa essere in grado di portare il proprio contributo quello che io dicevo nel titolo di questo intervento insegnare l'educazione l'intelligenza artificiale nel senso riuscire a far sì che il momento in cui vengono veramente ideati e progettati questi ambienti e questi algoritmi ci sia anche un dialogo aperto e costruttivo con chi è in grado di portare delle visioni su che cos'è la conoscenza su che come su cosa è l'apprendimento su quali sono le variabili chiave su cui agire per sostenere l'apprendimento diverse da quelle così diffuse radicate dell'apprendimento frontale trasmissivo basato esclusivamente sul linguaggio io scherzosamente spesso dico con i miei colleghi guardate come Teams piuttosto che Zoom piuttosto che altri strumenti stanno imparando l'educazione quando abbiamo iniziato a usare Microsoft Teams il giorno dopo del lockdown a marzo era uno strumento completamente diverso da quello che è adesso perché perché nel frattempo ha iniziato a misurarsi devo dire con prontezza ed intelligenza con le realtà del dell'apprendimento non ancora sufficienza a mio parere però il tema interessante come facciamo ad innescare questo processo di collaborazione e integrazione tra il sapere il sapere pedagogico il sapere antropologico perché voglio dire un contributo come quello di Tomasello che mi dice attenzione guardate che l'unicità dell'uomo si basa sulla sua capacità di cooperazione e collaborazione un qualche contributo deve riuscire a darlo lui sta all'istituto Max Planck e probabilmente lì è un territorio in cui si collabora con il mondo della produzione e dell'impresa e su questo interrogativo vi ringrazio di essere stati con me fino a quest'ora e mi interrompo qui ringraziando ancora tutti per la bella mattina grazie professoressa San Cassani per me è stato veramente un intervento interessante ho seguito cose che non ho mai visto ci sarebbe una domanda da Gianmarco microfono sì scusate allora intanto volevo ringraziare la professoressa per la disponibilità ad essere intervenuta ad Eluia e poi volevo dire dal mio modesto parere perché comunque mi sono interessato di MOOC durante la mia tesi di dottorato che secondo me il suo corso MOOC è uno dei più strutturati e meglio realizzati a livello italiano sicuramente e volevo parlare questo quesito sull'intelligenza artificiale e i MOOC e cioè io ho notato specialmente a livello italiano che c'è una completa deficienza insomma di agenti intelligenti all'interno dei corsi MOOC italiani e parlo delle varie piattaforme anche arrivando a i2open quindi volevo sapere se voi all'interno invece della vostra piattaforma del politecnico utilizzavate queste tecniche questi metodi riconducibili al dominio dell'intelligenza artificiale e su quali aspetti quello della profilazione oppure quello dell'assessment e così via la seconda invece è un'altra domanda un po' che possiamo anche estendere a livello mondiale cioè l'aspetto inclusivo da quello che ho potuto constatare diciamo a livello proprio questo mondiale l'aspetto inclusivo particolarmente parlo di accessibilità accessibilità al corso accessibilità ai materiali è quasi sempre un aspetto di contorno lasciato lì e poco e poco esplorato quindi volevo sapere se anche su questo voi avevate messo in pratica delle strategie ed eventualmente quali intanto grazie anche ai nomi dei colleghi Federica Brambilla Daniela Casiraghi e Paolo Marenghi che hanno contribuito al MOOC perché è stata una bella esperienza soprattutto è stata molto interessante la collaborazione con l'editore in quel caso mi fa piacere condividerlo perché con Pearson siamo riusciti a lavorare sull'idea che tutti i materiali fossero completamente liberi utilizzabili con licenza si si vai quindi tutto quanto può essere riutilizzato anche a scopo commerciale da chiunque è modificato riutilizzato cioè proprio un'apertura assoluta che credo non sia sempre facile ottenere in queste situazioni è proprio una prospettiva di apertura e condivisione la più ampia la più ampia possibile ora ne abbiamo fatto la versione inglese che è online da pochissimo perché effettivamente c'è stata una grande un grande interesse purtroppo ha assolutamente ragione non non ce n'è di intelligenza artificiale dentro ai MOOC ma non solo quei italiani ce n'è pochissima c'è della tradizionale del digitale tradizionale intelligenza artificiale non ce n'è c'è da dire che ecco noi abbiamo usato a volte il supporto di strumenti esterni che si appoggiano su intelligenza artificiale come quelli di peer grading o per esempio perusal che è una piattaforma che sostiene la lettura collaborativa di testi per cui si condividono dei capitoli di libro si assegnano alla classe e questa per esempio è un'attività prevista anche nel MOOC non la facciamo in tutte le edizioni perché richiede poi una bella attenzione anche nella gestione umana non basta la parte dell'intelligenza artificiale intelligenza artificiale aiuta perché permette al docente anche se la classe è molto numerosa di avere un quadro chiaro di chi ha contribuito quanto e con che livello di profondità ecco diciamo quindi intelligenza artificiale è entrata con un po' di soppiatto con altri strumenti e questa mi sembra una riflessione interessante perché è lo stesso fenomeno che è avvenuto col web 2 io ricordo che nel 2001 oltretutto avevo avuto un grossissimo guaio di salute per cui riuscita da un mese di terapia intensiva faccio molta fatica abbiamo un'aula di 80 persone e non ce la facevo a parlare tutto il tempo per cui abbiamo cominciato ad usare un wiki che allora i wiki erano ancora degli strumenti in cui bisogna mettere il codice cioè non avevano quell'interfaccia visi vig era un tiki wiki storico e facevamo molta parte della lezione usando la chat come strumento di brainstorming collettivo la costruzione collaborativa di test eccetera eccetera condividendoli direttamente in quell'epoca c'è stato una grande fertilizzazione dei processi di apprendimento online e non solo grazie dei singoli strumenti resi disponibili dalla rete tutti gli strumenti di scrittura collaborativa prima di essere comprati da Google stavano da soli io mi ricordo che incominciavo a usarli poi arrivavo in aula facevo per usarli non c'erano più perché Google li aveva comprati e li stavano però abbiamo incominciato a integrare poi dopo le piattaforme hanno pensato che allora il wiki poteva essere utile il blog poteva essere utile e li hanno integrati dentro ma lì io ho sempre visto un po' questa metafora tra il coltellino svizzero e la scatola degli attrezzi dico guarda io sinceramente invece nel wiki di Moodle preferisco usare un wiki che sta per conto suo fatto come Dio comanda ecco e lo linko là può essere che anche con l'intelligenza artificiale ci siano ci sia un periodo intermedio in cui ci appoggeremo degli strumenti che stanno fuori dalle piattaforme e poi un po' alla volta le piattaforme principali li impareranno rispetto e quindi insomma la cosa un po' noi facciamo dei lavori di sperimentazione per cui stiamo sperimentando i chat bot per rispondere a domande specifiche su dei testi stiamo lavorando molto su quest'aula estesa perché io sono convinta che sia una dinamica interessante cioè nel momento in cui promuovo un master di cui una parte è online e una parte è in presenza e devo cercare di integrare la dimensione della presenza del sincrono dell'online della sincrono dell'individuale del collaborativo quindi la matrice ha più ingressi che devo riuscire a tenere tutta quanta insieme e mi serve sì l'intelligenza artificiale per questo non è da banalizzare il tema dell'aula estesa ma è una follia fatto che uno deve contemporaneamente stare online e stare in presenza sì ma è un tema estremamente fertile è una follia perché non è risolto dobbiamo contribuire a risolverlo sia come modelli che come strumenti lì stiamo lavorando tanto operativamente proprio come test come strumenti ma ancora diciamo la fertilizzazione incrociata col mondo MOOC non non ce l'abbiamo stavamo per farla nel senso che i prossimi webinar dell'edizione in corso in inglese del MOOC avrebbero dovuto essere in aula estesa perché avrei dovuto avere i miei dottorandi che hanno il corso in inglese e i docenti di Politecnico stranieri in aula qua in Educafè e tutti gli altri partecipanti online ma adesso noi siamo zona rossa e quindi non se ne parla faremo più avanti se a Dio piacendo ecco stiamo proprio l'aspetto dell'inclusione ah scusa sì è vero il tema dell'inclusione il tema dell'inclusione purtroppo in questo momento è ancora molto limitato al tema dei contenuti non tanto a quello dell'interazione cioè sul tema dei contenuti secondo me l'abbiamo affrontato bene nel senso che piattaforme come Polimi Open Knowledge che si basano su Open edX hanno questi visualizzatori dei video che sono meravigliosi perché tu hai il video i sottotit cioè tutto il transcript a lato che è navigabile e noi l'abbiamo messo pure scaricabile e in più l'abbiamo integrato con tutte le infografiche che riassumono i concetti quindi si presta ad andare incontro a diversi tipi di difficoltà da quelle linguistiche perché quella spesso è una barriera importante da quelle linguistiche a quelle disturbi dell'apprendimento anche alle disabilità sensoriali molto più indietro siamo invece nella gestione degli strumenti di interazione perché se guardiamo questi strumenti per esempio di web conference eccetera sono ancora estremamente limitati il text to speech il text to speech con l'italiano è uno degli esempi che facevo è pietoso con l'inglese invece è un bello strumento però per esempio qua stiamo spingendo tantissimo sia con Cisco che con Microsoft siccome noi abbiamo tanti studenti che hanno bisogno del transcript per vari motivi stiamo lavorando con loro per riuscire a migliorare le performance dello speech to text in italiano però sono strade lunghe perché purtroppo noi abbiamo problema della massa critica di dati che il mondo anglofono non ha e quindi questi stimini apprendono con la massa critica di dati non è che si possano fare dei salti da un giorno all'altro ok grazie io se posso volevo fare una una curiosità chiede la professoressa lei ci faceva vedere all'inizio tutta una serie di telecamere di strumenti tecnologici che diceva che erano già commerciali però si intende commerciali che io lo posso comprare oppure ci sono già le università che già adottano queste cose e le hanno utilizzate in maniera significativa voglio dire e questa era la curiosità che avevo ma noi abbiamo fatto questo grosso salto nel Politecnico di Milano quest'estate per cui abbiamo attrezzato tutte le 350 aule di Politecnico in modo che permettessero quantomeno il fatto di agganciare il docente nei suoi movimenti di fare dei focus specifici sulla lavagna perché noi abbiamo molti docenti che usano ancora la lavagna e che per una serie di motivi di correlazione non causalità secondo me pensano che sia assolutamente l'unico e fondamentale modo perché dicono per tenere l'attenzione ai studenti e noi abbiamo scelto di rispettare questa visione e quindi l'abbiamo utilizzata anche in questo modo e non abbiamo invece installato nelle aule quel strumento quello che fa sfumare il docente mentre invece nelle aule più piccole abbiamo installato la telecamera che aggancia lo studente quando inizia a parlare fa focus su di lui e il sistema d'audio ambientale che taglia il brusio di fondo questo però lascia risolti alcuni problemi comunque perché per esempio come dicevo l'amplificazione contemporanea di chi parla da online e di chi parla dall'aula non è del tutto ben risolta ancora man mano bisogna andare davvero sul campo ed entrare in dialogo con le aziende portando delle esigenze reali ma mi sono resa conto nel dialogo con questi colossi con Cisco con Microsoft che le persone gli individui che realmente lavorano sullo sviluppo delle applicazioni di intelligenza artificiale e la didattica hanno una visione dell'apprendimento assolutamente primordiale la didattica trasmissiva basata sul linguaggio quella di cui parlava Gino Roncali all'inizio e poi gli individui fanno le cose per cui sono loro e quando gli dici ma guarda che io mi muovo nell'aula gli dici ma perché non ti puoi muovere da qui a qui dico no non posso da qui a qui perché io vado vicino e se vedo uno che non si muove che non fa le cose vado lì a vedere dove sta il problema e devono sentire che a me interessano e dice vabbè ma no ma muoviti sono in questo spazio qui no io non mi voglio troviamo un modo per no ma lo studente per parlare si deve alzare in piedi dico no non voglio che si alzi in piedi perché si deve già fa lo sforzo di parlare perché si deve alzare in piedi ma che significa non siamo in un contesto e questo è interessante no perché se viene da un contesto culturale in cui per lo studente non ha diritto a parlare se non si pone anche dal punto di vista posturale in una dimensione di sudditanza e subalternità e quindi è richiesto che si alzi in piedi e chieda il permesso di parlare ma siamo in un altro contesto lo vedi come la dimensione valoriale e quella educativa vanno a influire su il prodotto e allora noi abbiamo preso quello che mi agganciano quando mi alzo ma quando parlo non a caso quello che mi aggancia quando mi alzo veniva dall'estremo oriente quello che mi aggancia quando parlo no sarà stato un caso cioè adesso però non voglio fare appunto io l'errore della correlazione della causalità però comunque il tema e la riflessione va tenuta va tenuta aperta certo certo quindi non solo l'avete installati ma pure si comportano diciamo a parte i problemi che diceva lei magari di se vogliamo di collaudo o di troppa giovinezza di questi sistemi però mi pare che si funziona neanche piuttosto bene da quello che ho capito sì 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 decisamente cioè alla fine noi riuscivamo a mandare in contemporanea 350 lezioni miste online in presenza il mio terrore che dopo aver lavorato per anni in questa università per far venire a tutti la voglia di fare didattica attiva coinvolgente eccetera tutti mi ritornassero sul podio per fare l'aula estesa no così mi inquadra bene e sto lì bello no e quindi ho fatto tutto quello che potevo che non è stato comunque abbastanza perché la tecnologia non mi ha aiutato perché appunto poi la tecnologia che mi supporta una dinamica interattiva di un certo livello funziona solo nelle aule piccole in questo momento e come sapete le nostre università hanno tante aule grandi e anzi sono quelle che abbiamo usato di più in questo periodo per consentire i distanziamenti eccetera eccetera però io proprio l'ho raccontata ai miei docenti queste immagini le ho fatte vedere e dico non mi fate questa cosa terribile di spostarvi dal centro dell'aula e tornare sul podio perché ho fatto di tutto per farvi venire giù e non me lo fate adesso però un po' è caduto un po' è caduto inevitabilmente posso fare un'osservazione perché c'era un punto secondo me molto interessante che come ci stanno cambiando in questi mesi sotto le mani gli strumenti che stiamo utilizzando e c'è sempre la dialettica diciamo tra il desiderio di non essere troppo colonizzati dalle grandi aziende e il fatto che poi comunque quelli che fanno lavori interessanti in certi casi sono inevitabilmente le grandi aziende c'è una cosa che mi ha colpito proprio dell'evoluzione in questi giorni di Teams che è l'aggiunta della funzionalità di laboratorio informatico cioè si possono gestire e assegnare agli studenti delle istanze di macchine virtuali e questo mi sembra mi sembra uno sviluppo estremamente interessante perché se non soltanto si possono assegnare delle macchine virtuali agli studenti ma si possono anche popolare diciamo con strumenti specifici e io per dire mi posso costruire il laboratorio informatico virtuale di informatica umanistica in cui ci sono non so 50 computer virtuali macchine virtuali che hanno i software che mi serve far vedere o su cui mi serve far lavorare gli studenti e loro dal browser con un Chromebook vanno e hanno la macchina virtuale con i software questo è un è un è un cambiamento abbastanza rilevante diciamo di situazione e porta a immaginare che anche le situazioni laboratoriali in alcuni casi possano essere ci si possa lavorare effettivamente io non so non ho sperimentato niente di tutto questo cioè ho visto l'annuncio ma non ho provato e non so come quanta libertà di lavoro ci sia su queste macchine virtuali cioè che tipo appunto di software ci possa essere installato sopra qualcuno di voi ha provato qualcosa del genere per caso perché mi interesserebbe sapere se c'è qualche esperienza fatta io io sto lavorando adesso proprio con un collaboratore che è uno strumento di google ma voglio dire potrebbe poteva farlo qualunque si può fare tranquillamente perché basta avere strada dei server eccetera avere l'infrastruttura cloud voglio dire non è facile però la cosa che mi interessava era l'integrazione di questa cosa qui con una piattaforma e questo laboratorio di google permette di fare questa stessa cosa io non lo conosco adesso se ho capito bene cosa intendi con laboratori tu apri un notebook dentro drive come se hai preso un documento e tu praticamente hai a disposizione una vera e propria macchina ubuntu su cui puoi fare eseguire codici python ma puoi fare eseguire anche qualunque tipo di comando qualunque tipo di comando di ubuntu qualunque insomma i comandi di ubuntu direttamente e quindi per me per esempio che io quest'anno ho iniziato a proprio grazie a questo collaboratorio io ho iniziato a fare il python perché altrimenti bisognava far installare il python su client o comunque nel laboratorio la piazza telematica non so quanto era facile far installare il python e poi richiedeva delle cose invece quello sta su collaboratori gira sulla macchina ti dà una macchina virtuale intera ci fai girare l'applicazione di intelligenza artificiale io ieri ho fatto vedere che io ho un notebook sul collaboratorio dove gira la mia rete urale per far riconoscere i tesserini e quella funzione già sta lì pronta insomma quindi ci puoi fare questo e quindi poi lì c'è la possibilità di fare la condivisione puoi condividere tu a tutti o loro te lo possono condividere a te fai copia e colla noi abbiamo spesso e volentieri facciamo copia e colla nella chat del codice non mi funziona non va eccetera quindi ogni studente ha la sua istanza della macchina certo è come se tu ti apri il tuo documento dentro google drive te lo apri e ci lavori là dentro però non è un ambiente desktop cioè è prevalentemente per codice si quindi unix programmazione insomma c'è questo è solo per fare la programmazione nel momento in cui diventa un ambiente software in cui perché appunto le esigenze sono un po' diverse cioè sono quelle per esempio di far lavorare programmi di analisi testuale così questo genere nel momento in cui c'è la possibilità di avere veramente delle macchine virtuali gestibili con diciamo popolabili di software e gestibili in forma di laboratorio virtuale quello è un salto di qualità guarda qualcosa puoi fare già su quelle cose lì perché tu ti tutti devi installare ti fai io per esempio ripeto io ci faccio girare tutto il software di object detection recognition che fa l'analisi del video con la rete con PyTorch e poi mi fa l'output del video direttamente su un unico notebook con l'aboratorio quindi io mi ci scarico 200 megabyte di reti neurali con tutti i parametri ci scarichi tutti i video in input e poi c'è l'output quindi volendo si possono fare cose anche tutto quello che puoi fare su riga di comando sotto Ubuntu lo puoi fare e più il codice Python se tu c'è il codice Python fa delle cose sì certo quello collaboratorio c'è pure anche la parte testuale tra l'altro che si può scrivere il latech e quindi puoi scrivere cioè ci sono sia celle di codice che celle testuale puoi scrivere il latech o comunque in testo aumentato voglio dire con markdown ma volendo ci puoi mettere pure HTML si può lavorare sulle marcature per esempio sulle marcature c'è c'è tutta una cosa che tu io praticamente lo utilizzi per fare le formule matematiche io infatti utilizzo quello se lo fa a distanza mi metto lì scrivo il latech e io lo conosco il latech e faccio tutta la formula matematica che è quello uno dovrebbe farla con la tavoletta grafica invece a me mi viene perfetta poi scritta proprio con il meglio del libro ok quindi se ti devi fare per esempio le espressioni con le radici quadrate con le frazioni a me piace però viene perfetta quindi per fare anche queste cose qua certo ci sarebbe da pensare ma questa è una cosa proprio alla portata ti ci metti lì fai metti un cloud come dici tu fai un ambiente fai una cosa remota è un attimo c'è sta tutta l'ecologia si tratta di metterla insieme e costruirla ad hoc quindi c'è proprio da fare un lavoro da commissionare tipo un'azienda questo non è tanto di ricerca ma quanto ti fai e naturalmente può cambiare le prospettive anche per tante cose per la scuola se tu hai non semplicemente la piattaforma di esperimento virtuale in cui tutti vedono il docente fare l'esperimento che è già una cosa interessante ma è comunque molto centralizzata ma c'è invece una piattaforma in cui ogni singolo studente ha a disposizione il suo laboratorio di fisica virtuale è un salto di qualità notevole sì sì il laboratorio è così sì sì è così infatti io quest'anno l'ho introdotto proprio perché mi dava tutte queste possibilità e l'ho introdotto cioè ho introdotto nel corso un po' di programmazione in paio consideriamo che noi io ho i sociologi o quelli che fanno educatore di infanzia che non è che gli puoi far fare cose spinte di informatica però con questo se riesco a fargli fare i rudimenti della programmazione l'IF il FOR l'UA le assegnazioni fare anche qualcosa per me è abilitante è stata assolutamente abilitante altrimenti erano anni che ci pensavo di fargli fare un po' di programmazione però ogni volta desistevo perché come caspita fai a fargli installare il Python Python 3 già già non dico difficoltà io ogni volta a districare tra tutte le versioni eccetera eccetera figuriamovi a farlo fare ai sociologi e quindi questo è abilitante sì assolutamente lì non c'è niente da che ti fa di intelligenza artificiale ma anche pure il software è Jupyter Notebook con un server Jupyter che uno che io ce l'ho già installato pure sulla mia macchina e un punto si tratta di prendere un'azienda che ti fa che ti gestisce il cloud e ti fa tutto il software per la gestione chissà che già non ci stanno dei pacchetti già fatti sicuramente se lo inseriscono in Teams come una funzionalità in cui uno poi si può come dire configurare i computer virtuali le macchine virtuali come vuole quello è una sorta di laboratorio universale sì se ce la fanno in Teams certo sì va bene C'è Redmondo forse che voleva fare una domanda sì se è possibile alla professoressa San Cassani però vorrei un po' riportarla su un campo che ha solo sfiorato e non voleva proprio affrontare perché chiaramente richiede forse un dialogo più approfondito e rispetto a quello che è definito il paradigma linguistico nel campo dell'intelligenza artificiale ossia noi ad oggi siamo pienamente consapevoli che dal punto di vista sintattico e l'algoritmo riesce comunque in molte lingue ad avere un alto grado di interazione o comunque di capacità di quella che è la comprensione prettamente sintattica dal punto di vista semantico invece sappiamo che ancora c'è molto e molto da lavorare mi viene in mente un po' quello che già Wittgenstein affermava che solo attraverso la fiaba solo attraverso il racconto si poteva andare a donare una capacità di questo tipo alla pentola faceva l'esempio di questo tipo o al fatto stesso che il limite della percezione del mondo è data proprio dal limite del proprio linguaggio quello che esprimeva già nel suo trattato logico ecco io vorrei chiederle secondo lei quale livello di interazione dal punto di vista prettamente linguistico potremmo aspirare a raggiungere nei prossimi anni nei prossimi 5 barra 10 anni grazie ma guarda io ho una risposta da un uomo si può di donna della strada che pare brutto da un uomo della strada perché cioè rispetto alle frontiere di sviluppo dell'intelligenza artificiale in campo linguistico nella mia opinione è nel tutto posso fare di aspettative nel senso che se non altro sarebbe bellissimo vedere che quello che c'è già in embrione venisse messo a punto ad esempio già avere dei sistemi di speech to text e text to speech affidabili tra tutte le principali lingue parlate la traduzione automatica in tempo reale cioè già avere quel piccolo passo avanti lì sarebbe molto interessante ancora di più qualcosina c'è ma ci sarebbe a fare dei passi significativi rispetto alla consistenza del contributi nei contesti collaborativi allora se io avessi degli strumenti che di fronte al fatto che ho migliaia di iscritti al MOOC mi consentono in modo intelligente di sintetizzare degli aspetti tra virgolette qualitativi della consistenza del contributo allora qualche tentativo c'è ma lì veramente si tratta di fare dei salti di qualità rispetto a quello che abbiamo ora perché un po' c'è da definire che cos'è la consistenza di un contributo se non è legata alla lunghezza come giustamente chi ha giusto Gino prima faceva riferimento a mi è piaciuto tantissimo quel letto arrasoluto è una cosa meravigliosa no dici bene se ti esprimi in modo conciso già abbiamo fatto un passo avanti però naturalmente quello è facile da estrarre il tema rilevante potrebbe essere l'aiuto nel capire dove stanno i contributi originali interessanti ma lì c'è parecchio a fare l'altro tema sul quale secondo me si possono fare dei bei passi avanti è il tema dell'attività nella proposta dei contenuti soprattutto dei contenuti della rete perché questi sistemi di risposta di risposta alle esigenze che tu hai manifestato gli interessi che tu hai manifestato attraverso la segnalazione di altri puntatori di interesse funzionano in modo molto efficiente dentro a Amazon piuttosto che a Netflix eccetera ma se tu vuoi uscire e dici ma aiutami a cercare le cose di mio interesse nel mondo delle open education resources o nel mondo dei MOOC o nel mondo allora il tuo interesse diventa codificato da dei termini banali che devono coincidere in qualche modo col titolo della risorsa ecco sarebbe invece molto più interessante avere dei sistemi di indirizzo che ci aiutassero a interpretare i nostri reali bisogni di apprendimento e ci indirizzassero verso delle risorse interessanti in un mare magnum nel quale è difficile orientarsi lì c'è un bellissimo territorio ci sono tante piccole cose che vanno in quella direzione lì delle sorte di trip advisor messi negli aggregatori di MOOC cioè ci sono delle piccole cose però sono tutte disseminate non c'è integrazione chiaro grazie va bene io io vorrei dire questo che la giornata mi pare che si è svolta con interventi assolutamente finissimi di ripressione sul mondo della dell'educazione tra il mondo dell'educazione i media intelligenza artificiale digitale con spunti interessantissimi cose tantissime cose per me erano neanche note insomma le ho potuto vederle oggi o comunque mi sono approcciato oggi a a questi a questi a questi concetti insomma quindi insomma è un bilancio assolutamente positivo io ringrazio chiaramente tutti quelli che sono intervenuti e quindi ci rimandiamo al proseguo del convegno oggi non è già alle 15 benissimo grazie grazie a tutti 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 arrivederci Grazie.